che proprio in virtù dell'esigenza di una gestione trasparente ci permetta di utilizzare al meglio le risorse scarse che abbiamo a disposizione. Quindi innescare percorsi di trasparenza, di attenzione al fenomeno, a meccanismi di anticorruzione va a mio avviso ben oltre il semplice adempimento che non è semplice ma potrebbe magari essere solo formale. In questo senso da aziendalista per me vige il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sulla sostanza economica, sulla forma giuridica. Di norma le due cose vanno insieme, forma giuridica e sostanza economica si corrispondono. Ci sono delle situazioni in cui davvero magari non è così e allora occorre cercare di dare una risposta soprattutto alla sostanza di quel che facciamo, alla importanza di quel che mettiamo in campo, proprio nella logica di instaurare delle buone prassi. Cito un esempio che abbiamo avviato proprio in questa stagione di gestione dei fondi del PNRR perché credo che sia una buona prassi che abbiamo avviato nel gennaio del 2023 con la stipula di un protocollo di intesa con il comando provinciale della Guardia di Finanza di uno scambio di informazioni soprattutto in relazione alle procedure di acquisto di grandi attrezzature che potrebbero essere di un qualche interesse di soggetti e ce li vorrebbero magari proporre con modalità non proprio trasparenti. Allora quando abbiamo siglato questo protocollo l'idea era quella di promettersi uno scambio diciamo immediato di queste informazioni all'atto delle varie gare che abbiamo avviato per tutto quello che è l'utilizzazione delle risorse per i diversi progetti del piano nazionale di riprese e resilienza e questo è stato intanto un passo abbastanza poco diffuso perché siamo tra le poche università italiane che hanno stipulato questo tipo di protocollo e è una prassi che in qualche modo tra virgolette ci tutela e definisce un meccanismo di moral suasion perché fa sapere a qualche soggetto che magari potrebbe avere qualche interesse strano che abbiamo un legame diretto con la Guardia di Finanza rispetto a questo tipo di procedure. È una prassi di collaborazione interistituzionale nella quale crediamo e che può essere utile a spendere al meglio in maniera razionale le risorse del PNRR che peraltro ci vengono date ma tra qualche tempo le dovremo anche rendicontare e restituire quindi è bene che le spendiamo nel migliore dei modi possibili. Credo molto in questo, credo molto in questo tipo di relazione e di collaborazioni e credo che la giornata di oggi ci darà diversi esempi di quello che possiamo e a mio avviso dobbiamo fare. Buona mattinata a tutte e a tutti. Grazie Rettore, buongiorno a tutte e a tutti, credo che l'introduzione che ha fatto il Rettore sul significato della giornata della trasparenza sia onnicomprensiva, dei temi che generalmente le giornate della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni toccano, in questa stagione di fondi PNRR probabilmente ancora di più come università, l'intero sistema universitario è stato positivamente travolto da risorse importanti che vanno gestite con la dovuta delicatezza e con l'obiettivo di farle fruttare al meglio per lo sviluppo del Paese e soprattutto anche in termini di rendicontazione perché come giustamente ricordava il Rettore, molte risorse non sono nemmeno a fondo perduto ma sono dei prestiti e quindi sostanzialmente è ancora più importante il fatto di metterle a terra nel modo più corretto. generalmente come università o come pubbliche amministrazioni incentriamo la giornata della trasparenza su quello che fanno le università, le pubbliche amministrazioni quindi la nostra università in tema di organizzazione, di performance, di valutazione noi da un paio d'anni come pubblica amministrazione siamo tenuti a un piano integrato di attività e organizzazione che ricomprende dentro di sé i concetti che vi dicevo prima ma anche una parte importante del piano è costituita dal piano triennale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e per la trasparenza quindi il tema di oggi su cui ci saremo impegnati in termini di infiltrazioni della criminalità organizzata su attività economiche e ancora di più è fondante come dicevo anche soprattutto in questo periodo però io non rubo ulteriore tempo alla mattinata di oggi ci siamo riservati come amministrazione chiamiamola così in questi termini un breve spazio nella giornata della trasparenza per parlare comunque alla nostra comunità ma anche a tutta la comunità del territorio del nostro piano integrato delle attività dell'organizzazione che come vi dicevo ricomprende dentro di sé il piano triennale della prevenzione e della corruzione quindi è il tema fondante della giornata di oggi e quindi con l'occasione pregherei di prendere posto al podio il dottor Pier Rosario Lomagistro che è il dirigente dell'area sistemi informativi e che segue per l'amministrazione la predisposizione e l'attuazione di quello che vi dicevo del piano integrato di attività e organizzazione prego Pier Rosario e buona mattinata a tutti grazie ancora buongiorno un attimo solo predispongo la presentazione cercherò di essere breve perché i tempi sono contingentati delineerò quello che è stato il piano per l'amministrazione per la nostra amministrazione e cercherò di sottolineare quelli che sono stati alcuni aspetti innovativi del piano l'ultimo approvato che era il 2023-2025 faremo cercherò di fare un focus su in particolare alcuni obiettivi di semplificazione e digitalizzazione che abbiamo inserito nel Piau e difficilmente ce la faremo con i tempi però vorrei se ce la facciamo dare un accenno all'ultima direttiva ministeriale in tema di misurazione e valutazione della performance che è stata emanata dal ministro della pubblica amministrazione il 28 di novembre quindi meno di due settimane fa in cui vengono fornite delle linee guida che vanno ad aggiungersi a quelle precedentemente emanate in tema di misurazione e valutazione della performance per indirizzare le amministrazioni soggette alla valutazione della performance e alla predisposizione del Piau ad alcuni verso alcuni aspetti in particolari riguardanti la valutazione individuale brevemente cos'è il Piau? Il Piau è stato introdotto dal decreto legge 80 del 2021 ed è un documento che piano integrato di attività e organizzazione ha l'ambizione di riunire in un unico documento programmatico una serie di piani che le pubbliche amministrazioni erano tenute comunque a predisporre in particolare il piano della performance il piano operativo del lavoro agile il piano triennale del fabbisogno del personale il piano anticorruzione il salto i riferimenti normativi la struttura del Piau come definita dalla normativa di riferimento prevede diverse sezioni una scheda anagrafica con i dati dell'amministrazione una sezione dedicata al valore pubblico alla performance cercherò di dare una definizione per inquadrare un po' meglio il tema di cos'è il valore pubblico una sezione dedicata all'organizzazione del capitale umano in cui viene presentato il modello organizzativo dell'ente e le iniziative tese alla valorizzazione del capitale umano finalizzate alla produzione di valore pubblico e poi una sezione di monitoraggio il nel Piau tra le altre cose devono essere incluse l'elenco delle procedure da semplificare e dare ingegnerizzare ogni anno su cui ci sarei a fare un po' un focus più approfondito nella parte finale della presentazione le modalità e le azioni finalizzate alla realizzazione dell'accessibilità fisica e digitale quindi obiettivi che hanno a che vedere con l'accessibilità dei siti e dei documenti prodotti dalla pubblica amministrazione e modalità finalizzate alla realizzazione piena della parità di genere le finalità a cui intende rispondere Piau sono essenzialmente meno burocrazia più semplificazione anche attraverso la digitalizzazione una migliore qualità di programmazione cercando di andare verso la direzione degli obiettivi cosiddetti smart quindi specifici misurabili ottenibili realistici e legati al tempo una maggiore integrazione a livello di programmi qui anche da alcuni studi che sono stati fatti c'è stato un po' di inerzia verso il Piau in quanto i primi Piau siamo questo che verrà sarà il terzo Piau che verranno che le amministrazioni che sono tenute a predisporlo approveranno e si sta andando verso finalmente una programmazione integrata partendo da quello che in realtà soprattutto il primo anno era un piano dei piani cioè un aggregazione di documenti programmatici privi di una integrazione nativa e che risente soprattutto per quanto riguarda l'università di una diversa tempistica con cui vengono predisposti la programmazione triennale il Piau e il bilancio quindi il Piau serve strumento per programmare la creazione del valore pubblico il concetto di valore pubblico è presente nella letteratura della pubblica amministrazione da diversi anni l'orientamento generale è quello di definire il valore pubblico come le impatti delle politiche dell'ente migliorativi del benessere complessivo di cittadini imprese e stakeholder rispetto a una certa situazione di partenza la creazione di valore pubblico deve essere ehm finalizzata al miglioramento degli impatti quindi un valore pubblico che si crea definendo anche quali sono gli impatti su cui si eh vorrà eh andare a incidere che non sono i risultati eh immediati delle politiche e degli obiettivi ma che sono un risultato di medio-lungo periodo del miglioramento indotto dal miglioramento della performance, dell'efficienza, della riduzione dei rischi. La misurazione del valore pubblico viene fatta in appunto in termini di impatto sul benessere cercheremo di dare un una definizione di eh impatto presa da un corso che abbiamo tra l'altro organizzato qui in università per la misurazione dell'impatto della ricerca. Le criticità che sono nel corso emerse eh nel corso del tempo e che hanno portato all'introduzione di una programmazione integrata sono una certa burocrazia della performance cioè i documenti e tutto il ciclo della performance visto più come un adempimento a cui erano soggette le amministrazioni che come uno strumento migliorativo del eh benessere, della performance, dell'efficienza eh delle eh degli enti. Lo strumento che il PIAO mette a disposizione è appunto uno strumento di semplificazione, quindi meno piani, meno eh tempi da dedicare alla produzione di documenti, un documento unico che racchiude al suo interno tutte le azioni programmatiche sui vari livelli che abbiamo visto prima e che consentire, dovrebbero consentire una ehm l'impiego delle risorse in modo ottimale e quindi un efficientamento. Una dispersione delle attività ehm di performance, quindi una ehm spesso definizione di molti obiettivi, molti dei quali erano in realtà una rappresentazione di attività ordinarie portate avanti dalle unità organizzative in cui si articolano le amministrazioni. Il PIAO tenta di rispondere con una maggiore selettività, quindi con degli obiettivi magari ridotti di numero ma prioritariamente eh indirizzati verso la creazione di valore pubblico. Scarsa qualità di obiettivi e indicatori a cui si risponde con una maggiore adeguatezza, quindi con obiettivi più sfidanti, più congrui alla ehm alla politica strategica degli enti, possibilmente con dei target multidimensionali e possibilmente incrementali, cioè eliminare i cosiddetti target on off in cui l'obiettivo è conseguito se faccio una determinata cosa in cui spesso però si perde la dimensione della qualità, l'ho fatto ma l'ho fatto bene, l'ho fatto completamente, risponde alle esigenze degli stakeholder per cui è stato attivato quella, quell'obiettivo. Una programmazione per silos, quindi la programmazione finanziaria, la programmazione strategica, la programmazione delle attività di performance organizzativa e individuale. Cercare di integrare tutte queste attività con un'attività di programmazione che non è semplice da attuare ma verso cui ci stiamo dirigendo. E infine una maggiore finalizzazione degli obiettivi alla creazione di valore pubblico. Quindi riassumendo il valore pubblico come la confluenza di eh misure di ehm obiettivi operativi di performance che vanno a migliorare l'efficienza, l'efficacia e il livello di gradimento del degli stakeholder che implementano le strategie eh negli Ateneci al piano triennale, il le le misure di gestione dei rischi volte a ridurre i rischi sia di eh di corruzione e di mancanza di trasparenza ma in generale anche i rischi che portano a un incremento del benessere dei lavoratori e dei cittadini e che ha come risultato appunto una salute organizzativa e professionale migliorata. Alcuni punti salienti dell'ultimo piano approvato dall'Ateneo in cui abbiamo cercato di eh ovviare a quelle che erano che abbiamo ehm ehm esaminato poco fa eh che erano le i limiti eh più stringenti del Piau a cui abbiamo cercato appunto di indirizzarci verso il valore pubblico. Eh nell'ultimo Piau sono stati inseriti degli obiettivi di valore pubblico il nella relazione annuale il nucleo di valutazione ci ha dato atto di questa eh introduzione di questi obiettivi che sono stati anche resi coerenti con il resto delle azioni programmatiche quindi gli obiettivi operativi in cui si è poi articolato il piano eh della performance e dell'integrata dell'ente. E abbiamo tra l'altro andando seguendo quella che è la linea di eh di riferimento misurare il valore pubblico creato misurando l'impatto. Tra gli obiettivi che sono stati inseriti nello scorso nell'ultimo piano della performance approvato c'era proprio un obiettivo. C'è bisogno di Tommaso in sala? C'è bisogno della centralina? E un attimo cerchiamo di. Ok. Ci risiamo. Un attimo controllo se dall'esterno ci sentono. Sì. Quindi dicevamo abbiamo inserito nel Piau un obiettivo che aveva come ehm come scopo quello di definire una serie di indicatori di impatto ehm in questo caso limitatamente alle mh alla misurazione dell'impatto che i progetti PNRR di cui l'Ateneo eh di cui finanziamenti l'Ateneo ha beneficiato presentando alcuni progetti appunto definire le misure degli indicatori di impatto e le modalità con cui eh misurare eh questa questo questo impatto. È stata fatta una formazione specifica maggiormente orientata verso il personale che opera nel settore della ricerca in cui appunto sono stati che aveva come obiettivo la ehm la creazione di impatto ehm per i i progetti di. Sì. 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 Ok. Sì. Quindi le 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 abbiamo poi cercato di adeguare ad alcune indicazioni eh che sono state eh indicate sia in letteratura sia dalle varie comunità professionali in cui l'Ateneo partecipa e quindi abbiamo cercato di avere una maggiore selettività nella definizione degli obiettivi quindi meno attività ordinarie, obiettivi finalizzati prioritariamente alla coerenza con le linee programmatiche strategiche una maggiore adeguatezza degli obiettivi, quindi obiettivi più sfidanti, ridotti nel numero con meno indicatori on-off, più target misurabili e possibilmente con almeno tre livelli di conseguimento quindi un livello di normalità sotto la norma e un livello di eccellenza nel conseguimento dell'obiettivo un'ulteriore novità è stata l'introduzione di una sezione dedicata alla semplificazione e alla digitalizzazione perché? Perché la semplificazione e digitalizzazione sono degli strumenti con cui la pubblica amministrazione può essere riformata per renderla più vicina all'esigenza degli utenti amplia i canali di accesso ai servizi, rende i processi più trasparenti e controllabili riduce di conseguenza l'aumento di trasparenza e la controllabilità dei processi riduce i rischi di corruzione, permette l'automazione di compiti ripetitivi che spesso assorbono inutilmente risorse che possono essere destinate a servizi non standard o comunque a maggior valore aggiunto. La re-ingegnerizzazione dei processi è una delle chiavi per realizzare una digitalizzazione. I processi vanno analizzati, vanno semplificati una volta che sono stati formalmente definiti possono essere digitalizzati attraverso procedure automatico o comunque mettendo a disposizione degli utenti i servizi principalmente online e comunque accessibili da una pluralità di forme. Tra le iniziative messe in cantiere c'è stata anche la digitalizzazione di alcune serie documentari, in particolare lo scorso anno abbiamo provveduto attraverso l'acquisizione di piattaforme software apposite alla digitalizzazione di alcuni documenti tipici della didattica universitaria che sono il diario, i registri delle lezioni, il diario docente e strumenti che sono integrati con il timesheet che poi giocherà un ruolo importante nella fase di rendicontazione e semplificazione delle rendicontazioni dei progetti PNRR. Abbiamo realizzato un sistema di modulistica online attraverso il quale sono state fatte alcune realizzazioni, l'ultima delle quali è la procedura per la presentazione delle domande di partecipazione alle progressioni economiche orizzontali che rispetto al passato è stata nettamente più lineare, mette a disposizione della commissione dei dati strutturati, quindi non devono i commissari più andare a verificare quanto presentano le domande perché le domande sono acquisite nativamente in digitale e i dati sono strutturati e presentati ai commissari con le informazioni rilevanti per poi procedere alla loro valutazione. Come ho detto prima è stato digitalizzato il registro delle lezioni, è stato quasi completato la digitalizzazione dei percorsi formativi del personale tecnico-amministrativo, quindi avere uno strumento che consente di tenere sotto controllo sia l'offerta formativa ad uso del personale tecnico-amministrativo sia la partecipazione e i risultati di questa formazione che poi dovrebbero confluire a regime in una mappatura delle competenze del personale e una mappatura anche dei gap, dei deficit di competenze da colmare attraverso la formazione. Abbiamo avviato una sperimentazione della gestione interamente digitale degli ordini e dei contratti a partire dalla richiesta d'ordine che tipicamente il docente nel dipartimento o l'ufficio nell'amministrazione centrale compila direttamente online, un flusso autorizzativo e di contabilizzazione all'interno del sistema che consente appunto una gestione interamente digitale che quindi è più trasparente, tracciabile con tutti i vantaggi che abbiamo evidenziato precedentemente. Abbiamo poi posto le basi per lo sviluppo di un servizio avanzato a supporto della didattica, stiamo cercando di implementare un sistema di risposte automatiche alle domande più frequenti poste dagli studenti che spesso sono quelle su cui si perde più tempo perché il personale risponde a centinaia di mail quotidiane molto spesso sullo stesso argomento, molto spesso le risposte sono standardizzate. Abbiamo proceduto a una strutturazione della conoscenza degli uffici che fanno da front-end con gli studenti creando una tassonomia di classificazione delle richieste a cui associare delle risposte. Nel prossimo anno contiamo di acquisire un sistema per la implementazione di un chatbot, quindi di un risponditore automatico che in linguaggio naturale fornerà agli studenti le risposte alle domande più frequenti o li indirizzerà se non viene fornita la risposta verso un canale di comunicazione diverso dall'email, tecnicamente un trouble ticketing, un sistema che consente di tracciare le richieste, di assegnarle alla persona più competente per rispondere e di tener conto delle risposte fornite. Credo di aver consumato il tempo per cui non mi dilungo ulteriormente, do solo un accenno che una tra le novità della direttiva ministeriale, nuove indicazioni in materia di misurazione e valutazione della performance individuale, sono l'introduzione di un meccanismo di valutazione a 360 gradi, quindi non più la sola valutazione dall'alto verso il basso, dal superiore gerarchico al sottoposto, ma una valutazione dal basso in cui sono i sottoposti che valutano i sovraordinati, fra pari, valutatori che si valutano tra di loro sulle modalità con cui implementano la valutazione, collegiale, in cui è un collegio di valutatori che valuta le performance individuali e dall'esterno soprattutto per le strutture che hanno rapporti con il pubblico, principalmente con il pubblico, una valutazione fatta direttamente dagli utenti del pubblico. e ora credo di dover cedere la parola. Grazie per Rosario. Grazie mille, come avete visto dalla breve descrizione, il piano integrato di attività e organizzazione è uno strumento fondamentale sia di innovazione, ma con l'innovazione si adempia anche a quegli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione, perché ovviamente più le cose sono tracciate, più le cose sono strutturate, più le cose sono procedimentalizzate e minore il rischio ovviamente corruttivo anche all'interno, non immaginiamo in una struttura complessa come le università non immaginiamo il rischio corruttivo soltanto per appalti o per procedure di lavoro, si può manifestare in diversissime forme, nei concorsi ovviamente, nelle premialità, nell'attribuzione delle borse di studio, di incentivi economici agli studenti, quindi per noi, anche sulla base di quello che ci segnala ANAC, i rischi corruttivi vanno visti un po' a 360 gradi perché le attività sono molte e molto diversificate fra di loro. Entriamo nella seconda parte, introduciamo la seconda parte della mattinata dove parleremo un po' di più dei rischi corruttivi alti, quelli della criminalità organizzata e quindi sulla base anche dell'accordo che già citava il Rettore che ci lega a doppio filo con la guardia di finanza di Siena, chiamerei sul podio il colonnello Pietro Sorbello che è appunto per l'appunto il comandante provinciale della guardia di finanza di Siena. Grazie mille colonnello. Buongiorno, è un onore per me essere oggi qui a interloquire con un pubblico così esigente, qualificato e attento alla tematica della cultura, della legalità, della trasparenza e dell'anticorruzione. Un onore in particolare per essere qui alla presenza di Sua Eccellenza il prefetto, del procuratore della Repubblica e anche del dottor Tescaroli che ha guidato una delle mie ultime indagini nel precedente incarico di servizio. Per questa prestigiosa occasione sono riconoscente al magnifico Rettore. Il tema che mi è stato affidato riguarda le ragioni dell'osservanza della legge. Le ragioni dell'osservanza della legge che è essenziale per l'ordinamento giuridico perché ipotizziamo che l'inosservanza o l'assenza delle regole producono lo stesso effetto e già nella sua opera, nella Per la pace perpetua, Kant evidenzio come anche una società di diavoli avesse bisogno di regole, proprio per far capire quanto sia importante l'esistenza di regole. Parlare di osservanza della legge, troviamo questa espressione in più testi, quando una clausola finale alla fine dell'alto con cui la legge è promulgata, esenza dell'articolo 73 della Costituzione, vi è il richiamo, spetta a chiunque a osservarla e farla osservare. L'ordinamento giudiziario prevede che il pubblico ministero velli sull'osservanza della legge in maniera più diffusa. L'articolo 13 della legge 689 del 1981 fa riferimento agli addetti al controllo all'osservanza della disposizione della legge per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa. All'inizio degli studi universitari si fa riferimento alla legge collocata in alto nella gerarchia delle fonti del diritto e al diritto stesso come tecnica di regolazione delle relazioni sociali, quindi una definizione rilevante sul piano sociologico. Relazioni sociali all'interno di una società che è portatrice di valori e interessi che trovano la loro massima espressione nella Costituzione. Vi cito alcuni riferimenti di interesse fiscale, ciascuno è chiamato a concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva e questo è adempimento dei doveri di solitarietà economica, ma anche per rimanere nelle tematiche odierne il buon andamento della pubblica amministrazione garantito dall'articolo 97 è la base concettuale rispetto agli istituti che riguardano l'anticorruzione e la trasparenza stessa. Ora, gli interessi sono tutelati da regole ed è la regola è assistita da sanzione e questo garantisce l'effettività, perché esistono anche regole che non hanno natura giuridica ma morale, sociale, tuttavia la relativa violazione non è assistita alla sanzione, quindi il comportamento in questo caso non è coercibile. La sanzione giuridica tuttavia deve essere pronta e certa, vedremo che queste caratteristiche sono già state affermate da beccaria nei dei delitti e delle pene. Ora, la sanzione garantisce per certi aspetti quell'agire conforme alle regole che è la condizione auspicata dal legislatore, in particolare il legislatore penale. Perché dico in particolare? Perché il legislatore penale usa lo strumento della pena e della pena incide non solo sul patrimonio ma anche sulla libertà personale e quindi deve essere utilizzata come estrema razio. Perché? Perché la pena è un'arma a doppio taglio, tutela beni giuridici attraverso la lesione di beni giuridici. Ora, quando si parla di regolazione dei comportamenti sociali, si parla di politica sociale. La politica sociale, ivi compresa la promozione dei valori, all'interno contiene la politica criminale, che è l'insieme delle misure adottate dal legislatore, non necessariamente di natura penale, volte a prevenire la commissione di reati e in questa nozione rientrano anche la prevenzione antiriciclaggio, anticorruzione, per quanto riguarda l'oggetto della presente giornata, anche le misure relative all'antimafia. Ora, l'osservanza delle regole segue almeno due ragioni. Una, la condivisione dei valori sottesi alla regola e l'altra la convenienza all'osservanza della regola per non sostenere il costo della relativa sanzione. Max Weber distingueva l'agire razionale secondo due punti di riferimento. Lo scopo, quindi un agire secondo convenienza, o il valore. Un agire perché il valore sotteso alla regola è ritenuto importante. Per scendere più nel dettaglio un riferimento concreto, normativo, a queste diverse modalità di agire, lo troviamo in due istituti dell'ordinamento italiano. Da una parte la società benefit e dall'altra parte la disciplina della responsabilità degli enti prevista nel decreto legislativo 231 del 2001. La società benefit è una modalità strategica di gestione dell'impresa volta a creare valore non solo, come è previsto tradizionalmente, per i soci, ma anche per gli stakeholder, altri portatori di interesse che sono i dipendenti, i fornitori, i consumatori, la comunità, la pubblica amministrazione. E guardate, la società benefit ruota intorno all'impostazione solidaristica, che è espressione della responsabilità sociale ed impresa e che ha il punto di avanguardia nel principio dello sviluppo sostenibile, previsto dall'articolo 3 quadro del decreto legislativo 152 del 2006. Cosa significa il sviluppo sostenibile? Che la condizione di vita, che il perseguimento degli interessi della generazione attuale non deve compromettere le possibilità e la qualità della vita delle generazioni future. Ora vediamo anche che se nella società benefit la regola è osservata per la condivisione dei valori, nella disciplina delle responsabilità degli enti l'osservanza della regola si ha perché altrimenti l'ente ne risponderebbe con una sanzione che si affianca a quella della persona fisica perché il reato è stato commesso all'interno dell'ente nell'attuazione della politica di impresa, interesse o vantaggio, e in violazione di un dovere di organizzarsi in maniera adeguata alla prevenzione. Per capire ancora il legame che vi è fra questi due istituti basta ragionare su alcune coppie. Da una parte i reati presupposto, dall'altra gli interessi tutelati. Per reati presupposto faccio riferimento alla corruzione che oggi ci interessa, ma l'interesse è quello della pubblica amministrazione, reati tributari, interesse fiscale, omicidio colposo e lesioni in violazione della disciplina antinfortunistica, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, i reati ambientali, la tutela dell'ambiente, il commercio, la tutela dei consumatori. Quindi vedete quanto sia importante incidere da una parte su misure che consentono di perseguire una finalità che è ritenuta importante, perché attenzione che la scelta di essere società benefit non ha alcun incentivo, è stato introdotto nel 2016 e solo nel 2020 è stato previsto un minimo incentivo fiscale, un credito fiscale di 10.000 euro, quindi verosimilmente irrilevante. Ora, quando vi parlo di convenienza all'osservanza delle regole, entriamo in un ambito che consente al legislatore di calibrare le conseguenze della violazione della regola, prestando attenzione non solamente alla sanzione che può incidere sul patrimonio o sulla libertà personale, ma anche calibrandola in relazione alla sensibilità alla pena. Cosa significa? Nel contesto imprenditoriale l'imprenditore può anche scegliere di monetizzare il rischio della sanzione, se arriva bene e se non arriva meglio. La sensibilità alla pena significa che per un imprenditore può essere più afflittiva l'adozione di una misura interdittiva che non gli consente di operare, come ad esempio l'interdittiva antimafia. Ora, ragionare, come vi dicevo, sull'importanza di osservare le regole consente di approcciare un metodo che è quello dell'analisi economica del diritto, dove l'economia non è l'oggetto dello studio ma il metodo attraverso il quale si valuta l'efficacia della norma, ovvero la verifica della capacità della norma di orientare il comportamento rispetto all'obiettivo atteso. In questo caso, per garantire che una norma sia efficace, ci sono tre problemi normativi da affrontare. Il primo, aumentare la probabilità di essere scoperti. Il secondo, aumentare la probabilità di giungere a una sanzione, in senso lato, una sanzione amministrativa, una condanna penale, o anche l'adozione di una misura interdittiva antimafia, dove siano sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte imprenditoriali. Vi faccio alcuni esempi distinti per ciascuno di questa problematica. Per quanto riguarda l'aumentare la probabilità di essere scoperti, il whistleblowing, recentemente disciplinato in maniera generale dal decreto legislativo 24 del 2023, ma anche le segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio. Passando alla probabilità di giungere a una condanna in senso ampio, l'informativa interdittiva antimafia è fondamentale, ma è fondamentale anche dal punto di vista probatorio, perché consente un intervento anticipatorio che non si basa sul paradigma probatorio del processo penale che ruota intorno all'oltre ogni ragionevole dubbio, ma interviene in via anticipata secondo lo standard civilistico del più probabile che non. Ecco perché è uno strumento importante di prevenzione. Da ultimo, aumentare la probabilità di vedersi private dell'utilità o inutilità tratta dalla violazione della regola. È il caso delle confische che sono differenziate, abbiamo la confisca per equivalente che supera quella tradizionale per cui di un'agevolazione probatoria non si deve dimostrare la diretta pertinenzialità del bene ad aggredire con il reato a monte, ma ancora più semplice come agevolazione probatoria la confisca allargata per sproporzione e infine la confisca di prevenzione che va oltre la presenza di un reato. Vi dico però che oltre agli interventi di politica legislativa, vi sono anche altri istituti la cui cisionomia è mutata grazie all'interpretazione giurisprudenziale. Faccio riferimento a una importantissima sentenza dell'Esessione Unita, la sentenza Gubert del 2014 che prevedeva che ha stabilito che la confisca del denaro è sempre considerato confisca diretta, quindi non c'è la necessità di provare questo collegamento. Ma più di recente vi è stata un'altra ipotesi che aumenta l'esigenza di essere compliant ed è il discorso del sequestro dei crediti fiscali connessi al super bonus eseguiti anche presso le banche. L'articolo 240 del codice penale esclude la possibilità di confiscare un bene nei confronti della persona estranea e reato. Ma cosa si intende per persona estranea e reato? La persona estranea e reato non è solo chi non ha commesso o concorso a commettere reato ma è anche chi non ne abbia tratto alcuna utilità. La Cassazione ha confermato la legittimità di un sequestro preventivo di crediti fiscali nei confronti delle banche perché si è ritenuto che la banca acquirente il credito avesse tratto vantaggio, il vantaggio dato dal differenziale tra il prezzo d'acquisto e il valore nominale del credito ritenendo altresì che non fosse in buona fede perché nei confronti delle banche si applica la disciplina antiricicaggio che richiede una diligenza specifica, non la diligenza comune del buon padre di famiglia. Ora ulteriori forme che incidono e che rendono l'idea che non solo il crimine non paga ma costa anche in ambito anticorruzione sono degli istituti nuovi direi per certi aspetti drammatici in relazione al cumulo di conseguenze negative che rasentono la sproporzione perché accanto alla confisca per equivalente la legislazione anticorruzione prevede la riparazione pecuniaria accanto alla confisca alla condanna si applica l'obbligo di pagare una somma corrispondente all'utilità tratta dal reato ma a questo si aggiunge ulteriormente il danno all'immagine che riguarda la Corte dei Conti quindi vedete il cumulo di conseguenze. Ora da ultimo abbiamo parlato per ora di prevenzione e di repressione segnalo un altro tema che è molto importante per la strategia di tutela del bene giuridico la riparazione ed è importante per lo Stato se non riesce attraverso la deterrenza la minaccia della sanzione ad evitare la violazione della regola è importante che ci provi anche ex post stimolando la resipiscenza cioè il ritornare sui propri passi e vi sono degli istituti nuovi e antichi che replicano questa idea innanzitutto l'articolo 323 ter sull'impunità che viene con me concessa al corruttore al rispetto di determinate condizioni anche temporali alla collaborazione vi sono delle significative attenuanti ad effetto speciale per chi collabora non solo nell'ambito di reati contro la corruzione ma anche reati di reato di autoriciclaggio abbiamo anche l'estinzione del reato per condotte riparatorie un esempio speciale è quello che riguarda il pagamento del debito tributario l'accesso al patteggiamento in casi di reato di corruzione subordinato alla restituzione integrale del prezzo e profitto vedete incentivi e disincentivi però vi dico che la resipiscenza non è un istituto nuovo si parla di resipiscenza anche per evidenziare l'importanza della riparazione nel 2022 col decreto legislativo 150 l'articolo 42 ha previsto l'istituto della giustizia riparativa ma chi intende riparare lo può fare tanto per una recuperata condivisione dei valori ma anche per una calcolata convenienza che è quella di ridurre le conseguenze negative guardate non è una novità già il delitto tentato l'articolo 56 il codice penale riconosce due istituti simili che rispondono alla teoria dei ponti d'oro la desistenza volontaria e il recesso attivo ora mi avvio alle conclusioni con un timore riverenziale per un'impulsione nell'ambito disciplinare del professor pagliantini è meno escluso perché la stessa logica della non convenienza la troviamo anche nel diritto civile con matrice tanto legislativa quanto giurisprudenziale nel decreto legislativo 7 del 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento l'illecito sanzionato con la sanzione pecuniare civile ma anche più meno recentemente l'articolo 1815 del codice civile fa riferimento alla sorte degli interessi usurari ora la regola generale che un contratto è nullo quando la causa illecita perché è contraria all'ordine pubblico è un reato in questo caso lo renderebbe nullo ma in questo caso il legislatore interviene in maniera diversa perché sanziona anche dal punto vista civilistico l'usuraio dicendogli guarda la clausola sugli interessi è nullo e la conseguenza che un contratto tendenzialmente oneroso quale il mutuo diventa gratuito ma continuando ancora sul piano giurisprudenziale c'è una sentenza dirompente delle sezioni unite la sentenza 16601 del 2017 per quanto riguarda lo sdoganamento nel nostro ordinamento della risarcibilità dei cosiddetti danni punitivi il risarcimento ultracompensativo guardate è una svolta epocale perché il risarcimento tradizionalmente ha svolge una funzione di compensare il danno che c'è stato poi ripristano dello status quo ante o l'equivalente monetario nella misura in cui al danneggiato viene corrisposta una somma superiore rispetto al danno quella parte in più non compensa una funzione diversa che è quella di affliggere ci rendiamo conto che questa sentenza mette in discussione le categorie giuridiche tradizionali e non è la prima volta che succede nel 2014 si è verificato con la sentenza grande stevens della corte europea di diritto dell'uomo che ha affermato che sanzioni formalmente amministrative devono essere considerate sostanzialmente penali se raggiungono un livello di affittività eh paragonabile a quello delle norme penali concludo questa circostanza pone a dover superare il rigido schematismo della logica binaria sanzione verso risarcimento sanzione amministrativa verso sanzione penale illecito civile che non che compensa solamente no perché bisogna approcciare a una logica in cui tra gli elementi appartenenti allo stesso insieme vedasi la politica criminale insieme di misure amministrative civili penali il cui obiettivo è ridurre il numero dei reati tra diversi elementi appartenenti a un insieme non vi sono rigidità ma gradi comuni di appartenenza quindi la logica diventa una logica cosiddetta fuzzi o sfumata questo consente di capire come il diritto penale abbia bisogno di strumenti di prevenzione sostituzione e rinforzo uno di queste è la eh misura l'interdittiva antimafia che consente di anticipare l'intervento del diritto penale spero di non avervi annoiato troppo e vi ringrazio per l'attenzione grazie mille colonnello per questa interessantissima relazione che dà un po' anche il via alla seconda parte della della mattinata perché colonnello ha ricordato anche le cosiddette sanzioni interdittive che saranno poi il focus della tavola rotonda eh che ci vedrà impegnate nella nella prossima ora più o meno eh quindi chiamerei al tavolo eh il professor Stefano Pagliantini direttore del dipartimento di giurisprudenza che svolgerà il ruolo di di moderatore e il il dottor Pasquale Pacifico procuratore aggiunto presso la Repubblica di presso la procura della Repubblica di Caltanisetta che è invece collegato da casa scusate da remoto buongiorno buongiorno eh procuratore eh il dottor Luca Tescaroli procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Firenze e il eh generale Antonino Buda in servizio presso la direzione investigativa antimafia prego ma intanto eh porto i saluti del dipartimento di giurisprudenza che che ho eh l'onore e l'onere di eh dirigere eh ringraziando per il coinvolgimento in questa importante eh in questa occasione di riflessione con eh relatori così eh qualificati eh la mia eh sarà una eh testimonianza molto molto rapida posto che eh nella eh diciamo relazioni che ci hanno preceduto segnatamente nell'ultima del comandante provinciale della guardia di finanza è emerso come il fenomeno eh attuale eh veda mh dell'evoluzione giuridica una mh contaminazione tra un diritto eh civile che eh per così dire assume tratti eh di sanzione ed un diritto eh di un diritto penale che si verrebbe a mostrare delle eh delle eh venature eh civilistiche. Mh io mi limito a dire questo eh trasparenza è una formula di grande interesse ma eh rischia di diventare una formula magica se non la si declina in modo tale eh da eh garantirne eh l'effettività. Per il civilista trasparenza eh significa eh chiarezza eh chiarezza informativa e completezza dell'obbligo di informazione perché è finalizzata a mh garantire una consapevolezza della scelta contrattuale e quindi ad assicurare una concorrenzialità del mercato. Eh questo nell'ottica di un mercato come istituzione sociale che garantisce il benessere eh collettivo. Nella versione odierna eh la trasparenza eh lascia intravedere l'altro suo volto della eh lotta eh alla eh corruzione e da tutto ciò che eh finisce per eh alterare eh una eh legalità eh dell'agire eh della pubblica amministrazione e delle eh imprese eh in comune in realtà eh le due nozioni hanno la circostanza segnalata prima dal eh magnifico rettore che è tanto una trasparenza civilistica quanto una trasparenza che attiene al mondo eh del eh diritto penale eh necessitano di tecniche di tutela adeguate a renderle effettive onde evitare appunto che diventino semplicemente delle formule eh magiche. Eh oggi si discute e mh chiamerò adesso su eccellenza il prefetto all'introduzione eh si discute di questo decreto che appunto eh prevede queste forme mh di eh tutela eh interdittiva a queste forme è associata a una eh incapacità mh di tipo legale ecco qui si aprirebbe tutto un altro discorso eh molto importante per il eh civilista rispetto alla eh testualità e tassatività delle forme di incapacità ma chiedo a sua eccellenza il ministro eh la dottoressa Matilde è più vera di prendere la parola. Allora buongiorno a tutti. Un saluto e ringraziamento particolare per l'opportunità per l'ospitalità che il magnifico rettore dell'Università di Siena Roberto Di Pietra ha voluto eh prestare a tutti noi a questo argomento al direttore generale dottor Emanuele Fidora al moderatore Stefano Pagliantini direttore del dipartimento di giurisprudenza ai relatori al procuratore Pasquale Pacifico procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Caltanissetta che lasciatemelo dire saluto con grande affetto e con grande stima per tutto quello che abbiamo fatto insieme al dottor Luca Tescaroli procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Firenze che ringrazio particolarmente per aver voluto partecipare e per tutto quello che faremo non è una minaccia procuratore è un auspicio a tutto quello che sicuramente faremo insieme al generale dei carabinieri Antonino Buda in servizio presso la direzione investigativa nazionale antimafia eh al quale sono anche legato ad esperienze pregresse di lavoro e di analisi delle necessità di modifica normativa che poi il generale ha portato a un tavolo ministeriale le cui risultanze sono convendiate in questo decreto di cui trattiamo oggi. Infatti oggi è l'occasione per un focus sul recente decreto del Ministro dell'Interno del 2 ottobre 2023 che ha introdotto alcune modifiche per il potenziamento dell'azione istruttoria dei gruppi interforze antimafia che per la prima volta assumono chiaramente questo termine di gruppo interforze antimafia che nascono nel 2003 quindi ben vent'anni fa per il monitoraggio delle infrastrutture degli insediamenti ehm industriali e sarà anche l'occasione per presentare alcuni modelli operativi come ho già detto già attuati nella mia pregressa esperienza quale prefetto di Enna soprattutto con riferimento alla circolarità informativa tra i gruppi oggi li chiamiamo interforze antimafia e le procure distrettuali antimafia. Quello di cui parliamo oggi permettetemi questo termine eh secondo me la nascita eh accanto alla polizia giudiziaria che supporta l'autorità giudiziaria di una polizia di prevenzione permettetemi questo termine penso che sarà un grande risultato l'applicazione anche grazie alla sinergia proprio con l'autorità eh giudiziaria. Va premesso in relazione all'attività preventiva antimafia delle prefetture che l'informativa antimafia come già rappresentato nei precedenti interventi con particolare riferimento a quello del colonnello della guardia di finanza non è comunque una misura di carattere sanzionatorio ma trattasi di uno strumento di interdizione di controllo sociale che ha il compito in via preventiva appunto come ho detto di contrastare le forme più subdole di aggressione all'ordine pubblico economico ma c'è di più come diceva anche il professore Pagliantini ehm l'interdittiva antimafia agisce non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione perché nel caso di interdittive viene fatta una comunicazione alla prefettura anche alla camera di commercio quindi inerisce anche i rapporti tra privati c'è una sorta viene attestata seppur temporanea perché voi sapete comunque le interdittive vengono verificate ogni anno su istanza di parte praticamente c'è una sorta di idoneità dello stesso imprenditore e l'attività di prevenzione antimafia è affidata alle prefetture è quello che io vorrei evidenziare che non è un mero rilascio di una certificazione come spesso si pensa cioè un controllo dello SD che sarebbe il sistema di indagine che è a disposizione delle forze dell'ordine e anche per quota parte delle prefetture eh più nel non come investigazione ma come analisi dei dati ehm è ma è un'analisi di tipo globale presuppone la verifica della sussistenza sì di reati ossativi o indizianti ma anche l'analisi del contesto economico e criminale di riferimento del reati spia delle delle cointeressenze dell'anamnesi dell'organizzazione aziendale una cosa molto importante che comunque io ho approfondito nella mia esperienza è l'analisi necessaria dei patti parasociali perché modificano sostanzialmente quelli che sono i rapporti decisionali nell'ambito dell'impresa quindi la mancata acquisizione dei patti parasociali che non sempre sono presenti su telemaco ehm riduce quella che è la conoscenza in qualche modo dell'azienda ehm il la la differenza tra l'altro tra la misura di prevenzione e poi le sanzioni invece del giudice le sanzioni penali sono che l'adozione della misura di prevenzione necessita il tentativo di infiltrazione avendo lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa oggi all'interdittiva antimafia diciamo da qualche anno si è aggiunto un'altra forma di attività che è quella praticamente della prevenzione collaborativa per evitare di estromettere dal mercato aziende che potenzialmente presentavano dei fenomeni di eh collusione con la criminalità organizzata o di contiguità con la criminalità organizzata è stato previsto questo strumento di prevenzione collaborativa mh che eh è sovrapponibile in qualche modo a quello disposto dal giudice in base al trentaquattro bis a seguito dell'interdittiva antimafia che anticipa comunque l'interdittiva antimafia ed è di competenza del prefetto proprio la settimana scorsa abbiamo firmato o mh firmato in in prefettura questi eh due decreti di collaborazione preventiva per due aziende della provincia di Siena eh che presentavano del collegamenti con la criminalità organizzata ma anche dei profili di emendabilità già acclarati peraltro presso altra sede del giudice penale in base al trentaquattro bis. Il Consiglio di Stato ehm nelle ripetute sendenze ha sottolineato come alla base del rilascio della certificazione antimafia deve esserci una visione d'insieme di tutti gli elementi che devono essere raccolti nel corso dell'istruttoria e qui ci colleghiamo proprio alla nascita praticamente alla genesi di questo decreto che eh in qualche modo incrementando quelli che sono ehm le possibilità le potenzialità dei gruppi ehm del presenti presso le prefetture eh aumenteranno quelle che sono le potenzialità di conoscenza dei fenomeni criminali sul territorio sul territorio ehm nella l'analisi infatti presuppone eh che eh bisogna considerare i casi in cui una società si avvale della collaborazione continuativa di un'altra azienda colpita da informazione interdittiva infatti eh assumono importanza eh tutti gli elementi volta a dimostrare la continuità fra più aziende e proprio questi due recenti fenomeni che sono eh questi due recenti provvedimenti adottati ai sensi del 94 bis del codice antimafia si basano su quelle che sono le cosiddette interdittiva cascata altre aziende in altri territori erano stati raggiunti da provvedimenti interdittivi conclamata la presenza e il collegamento con aziende contraindicate sul nostro territorio che hanno portato all'adozione di questo provvedimento ehm analogamente possono avere rilievo alcune vicende anomale nella concreta gestione dell'impresa come per esempio l'esistenza delle cosiddette teste di legno nelle cariche sociali o di sede legali e fantasma oppure la presenza sul cantiere di soggetti affiliati alle associazioni mafiose o ancora i rapporti con politici locali collusi con la mafia come hanno dimostrato le interdittive adottate dalla prefettura di Enna a seguito dell'indagine ultra della DDA di Caltanissetta che ha portato allo scioglimento del comune di Barra Franca dall'accesso è emerso infatti che molte aziende qui erano state affidati dal comune degli incarichi in palesa evoluzione delle norme sui contratti oltre alle direttive dell'ANAC naturalmente sulla trasparenza e sulla rotazione erano collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso che attraverso la giudicazione di piccoli appuatti come si evince dalle intercettazioni telefoniche in alcuni casi il figlio del boss parlava di incarichi di mille, duemila, settemila euro ma non era l'importo quello che era importante ma la voglia di presidiare l'ente determinando nelle sorti politiche amministrative seguivano il boss con i figli seguivano anche le sedute dei consigli comunali per poi dare le direttive al sindaco su quelle che erano le attività che dovevano essere poste in essere per il presidio totale. Naturalmente in che cosa riprendo mi ricollego a quello che è stato detto dal colonnello anche dal magnifico rettore. Questo praticamente provvedimento si inserisce in una serie di misure previste dal decreto legge ventiquattro febbraio duemila e ventitré numero tredici convertito con modificazioni dalla legge ventuno aprile duemila ventitré numero quarantuno che ha rimesso un decreto ministeriale la previsione di misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei gruppi istituiti presso le prefetture ai fini del tutela della tutela dei fondi principalmente del PNRR quindi di quei beni comuni di cui parlava il colonnello cui tutti dobbiamo in particolare prestare attenzione. Il decreto costa di vari articoli io ne citerò soltanto alcuni che poi approfondiranno il generale Buda e anche i procuratori. Intanto l'articolo 1 disciplina la composizione dell'organismo collegiale stabilendo in un'ottica di efficientamento dello stesso che relativo a personale appartenente alle forze di polizia quindi che costituiscono i gruppi interforze antimafia sia dedicato cita la norma prioritariamente allo svolgimento di tal incarico attraverso naturalmente un'attività di raccordo e scambio indormativo con la struttura di appartenenza. Per questo io parlavo di una sorta di collegamento con la polizia giudiziaria perché non c'è una dipendenza c'è una dipendenza funzionale dal magistrato in questo caso i gruppi interforze dal prefetto per l'attività istruttoria però rimangono sempre incardinati nelle strutture di appartenenza. Il secondo comma impone una selezione degli operatori basato sull'elevato tasso di specializzazione richiesto per l'esercizio della funzione. In proposito va sottolineato la delicatezza del combito affidato alla struttura a fronte di organizzazioni criminali che con grande flessibilità sono impegnate a ricercare sempre nuove forme e modalità di penetrazione dell'economia legale mediante articolate e sofisticate schermature finalizzate a deludere le investigazioni. Sull'articolo 2 è dedicato alle modalità di funzionamento del GIA ma io non entro nel merito perché sicuramente sarà più esaustivo l'intervento del generale Buda. Per rispondere alle necessità istruttorie l'articolo 3 prevede una preventiva valutazione da parte del gruppo GIA del contesto ambientale in cui agiscono i soggetti sottoposti ad analisi tenuto conto delle aree territoriali dove risulta storicamente eradicata e pervasiva la presenza di organizzazioni di tipo mafioso. Inoltre al fine di coniugare accuratezza e tempestività del controllo la disposizione richiede che vengono individuati specifici criteri cui ispirare gli accertamenti ingentrando le verifiche in primo luogo sulle imprese che svolgono le attività più sensibili per gli interessi criminali. L'accesso ai cantieri effettuato ad Enne in base a un protocollo di legalità ha evidenziato che parecchie aziende, e ora mi rifaccio alla politica di self-clanning di cui parlava il colonnello, devo dire che tutte le aziende che abbiamo trovato nei cantieri e qui erano affidati su palti da parte dell'ANAS, quindi diciamo di una grande azienda per la gestione delle autostrade, avevano tutte utilizzato lo strumento del self-clanning trasferendo a figli, parenti, eccetera, le aziende adottando la 231 e poi lavoravano nei cantieri con i soggetti controindicati del caso. Quindi l'accesso ai cantieri effettuato ad Enne in base a un protocollo di legalità ha evidenziato che parecchie aziende, facendo parte di un consorzo di imprese, regolarmente destinatario di certificazione antimafia liberatoria, presentavano controindicazioni in relazione alla normativa antimafia e questo secondo me è un vulnus in qualche modo della normativa che riguarda i consorsi, perché la normativa antimafia relativa ai consorsi prevede che devono, anche se i prefetti possono estenderla a tutte le aziende, essere sottoposte a controllo e le aziende in possesso di un capitale sociale pari al 5%. Questa norma ha avuto una serie di evoluzioni, è passata per norma dal controllo totale di tutte le aziende che però rallentava i tempi di accertamento. Questo consorzio che lavorava ad Enne aveva 100 imprese e quindi divise in tutta Italia, per cui un accertamento puntuale sulle singole aziende avrebbe reso impossibile il rilascio della certificazione. Infatti nel caso di specie le innumerevoli aziende non superavano l'1%, anche se tutte le aziende che praticamente sono state controllate nei cantieri a seguito dell'accesso non avevano sede legale ad Enne, ma in altre province sono state destinatari di interdittive che poi sono virate verso 34 bis provvedimento giudiziario o del 94 bis da parte di prefetti di altri territori. Il successivo articolo 4, richiamando l'attività di verifica del GIA nei cantieri e presso gli uffici delle imprese, sottolinea l'esigenza di acquisire l'intese delle competenti autorità giudiziarie. Qui insieme al 6 sono gli articoli che proprio regolamentano questa sinergia tra potere amministrativo e potere giudiziario nel piano degli accessi, elaborato in modo da evitare interferenze con le eventuali attività investigative. Un altro tema particolarmente valorizzato del decreto è quello dei flussi informativi che devono intercorrere durante l'intero ciclo di realizzazione degli interventi del gruppo G e il gruppo Interforze Generali verso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Inoltre, il ritorno anche a quello che era stato in qualche modo anticipato dal colonnello, è prevista anche la condivisione in Sena al GIA delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dall'UIF, presso la Banca d'Italia, alla direzione investigativa antimafia. Infine, è previsto che con cadenza, almeno qua di me stare, il GIA relazioni sull'attività svolta nel corso di una riunione di coordinamento delle forze di polizia. Quindi il coordinamento delle forze di polizia è a livello superiore del GIA perché è praticamente a livello di prefetto e vertice alle forze di polizia col coinvolgimento del procuratore distrettuale antimafia. Sulla circolarità delle informazioni, volgo chiudere, voglio rappresentare che in sede di anozione di un interdittivo antimafia presso la prefettura di Enna, nei confronti di un'azienda che si occupava della gestione dei rifiuti, è emerso che oltre alla figura del direttore tecnico in tale tipologia di imprese si annovera quella del responsabile tecnico, che purtroppo non è rilevabile dal telemaco della Camera di Commercio. L'accesso presso l'azienda ha acclarato che il responsabile tecnico aveva collegamenti con la criminalità organizzata calabrese e lavorava per numerose aziende, compromettendo la trasparenza degli appalti. in un appalto gestito da un ente della provincia, le cinque aziende che si erano presentate avevano tutti i direttori tecnici diversi, che era quello che si venceva dalla certificazione, ma avevano tutti lo stesso responsabile tecnico che aveva collegamenti con la criminalità organizzata calabrese. La trasmissione della relazione concernente l'accesso, e qui ritorno all'importanza della circolarità delle informazioni a tutte le prefetture e le successive indagini da parte dei gruppi GIA ha comportato l'adozione di provvedimenti antimafie interdittivi a seguito della verifica del responsabile tecnico. Quindi non solo è emerso che queste aziende avevano il collegamento corresponsabile tecnico contiguo all'Andrangheta, ma anche che altre aziende nella gestione dei rifiuti avevano dei responsabili tecnici contigui alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Tenuto conto peraltro degli elementi di continuità tra lo strumento di prevenzione amministrativa, de competenza dei prefetti e il vessante investigativo rimesso all'autorità giudiziaria, il decreto appunto norma una sinergia operativa tra i medesimi uffici che naturalmente nel rispetto dei limiti discendenti dal segreto investigativo consente il più efficace svolgimento delle attività di rispettivo interesse. In particolare dalle sinergia ha trovato attuazione tra la prefettura di Enna e la DDA di Caltanissetta che ha in qualche modo come rappresentato oggi dal decreto normato reso disponibile in relazione alle informative antimafia che la prefettura di volta in volta andava ad adottare tutto ciò che era naturalmente ostensibile quindi non coperto da segreto istruttorio. Sullo sviluppo di tale aspetto sinergico saranno gli illuminanti gli interventi del procuratore della DDA di Caltanissetta, dottor Pasquale Pacifico e del procuratore aggiunto della DDA di Firenze, dottor Luca Testaroli. Naturalmente quando rappresentato evidenzio un notevole passavanti nella razionalizzazione e la prevenzione antimafia anche se secondo me altri due elementi che più volte ho evidenziato anche al Ministero, al gruppo praticamente che si occupa del controllo degli appalti è la necessità di una reingegnerizzazione dello SDI perché lo SDI contiene soltanto le informazioni che riguardano praticamente le denunce ma non c'è un'evoluzione sul procedimento quindi fare una verifica sulle aziende è estremamente complessa. Un altro limite naturalmente è anche il fatto che non esiste a differenza del casellario una banca dati nazionale sui carichi pendenti e per esempio a Denna è emerso da fondi aperte che una delle aziende a cui stiamo rilasciando una liberatoria aveva un procedimento penale per un 416 bis evidentemente nato d'ufficio e non su denuncia delle forze dell'ordine quando meno non inserito nello SDI che praticamente poi ha portato un 94 bis ma successivamente un'interdittiva perché l'azienda è stata come spesso accade abbandonata dai rappresentanti legali per realizzarne un altro in un territorio contiguo lontano da Enna quindi hanno capito questo appunto dello spostamento dello shopping della sede legale come dice lo stesso Ministero dell'Interno. E poi un altro elemento che sarebbe di grande interesse è quello praticamente dell'utilizzo delle fonti aperte come voi sapete la polizia giudiziaria può accedere naturalmente a fondi aperte diverse da quelle che sono su internet, insomma da Google eccetera anche se con il limite tra la riservatezza e la possibilità di utilizzare anche conversazioni di Facebook o di altri social sarebbe importante che anche la polizia di prevenzione fatemi passare questo termine possa accedere alle fonti aperte perché come ricordava il generale il nostro metodo di lavoro ad Enna intanto prima di rilasciare una certificazione antimafia è quella di un'analisi su internet perché su internet purtroppo chi è vittima di internet purtroppo rimane tutto ma rimane tutto anche come vecchi procedimenti penali, vecchie indagini quindi l'uso delle fonti aperte secondo me è sempre strategico e di recente non abbiamo firmato un protocollo perché una delle aziende con cui già era stato sottoscritto il contratto da parte di una grossa azienda che si occupa di trasporti praticamente era stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare quindi devo dire che l'uso delle fonti aperte dove fosse più regolamentato sempre nel rispetto comunque della privacy eccetera sarebbe sicuramente di grande aiuto anche per la nostra Polizia di Prevenzione. Grazie Ringraziamo Su Eccellenza il Prefetto per questa bella e stimolante relazione che ha evidenziato come l'obiettivo di quella che tutti chiamano una trasparenza cristallo sia poi ostacolato dall'esistenza di una pluralità di convitati di pietra a cominciare dai patti parasociali e dalla disciplina in materia di consorsi per citare soltanto due delle ipotesi. Ci sarebbero tante altre cose da osservare il tempo però è tiranno e quindi do immediatamente la parola al dottor Pasquale Pacifico che è procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Caltanissetta e che ci segue a distanza. Prego. Grazie, buongiorno, spero vi sentiate bene. Voglio innanzitutto porre un ringraziamento all'Università di Siena e dalla Prefettura per l'invito a partecipare a questa interessantissima tavola rotonda. La tematica che credo dobbiamo affrontare è quella di realizzare un'efficace attività di coordinamento tra le attività della magistratura e quindi le attività investigative e i compiti della Prefettura sia in tema di attività di prevenzione e sia, e direi soprattutto, in tema di attività istruttoria preordinata all'adozione di misure interdittive. E si pari bene, non è una tematica di poco momento dove si tenga conto che ci sono delle esigenze molto spesso contrastanti perché dall'altro, da un lato c'è l'esigenza per le prefetture di intervenire tempestivamente con provvedimenti che vengano emessi in tempo pressoché reale che si scontra però con le esigenze e con i tempi spesso piuttosto lunghi delle attività investigative, specie quando si parla di attività investigative antimafia che sono genericamente attività che si protraggono molto spesso anche per alcuni anni. Quindi il primo punto essenziale è di trovare una sintesi tra il segreto investigativo al quale ovviamente l'autorità giudiziaria è tenuta e la tempestività che deve invece contraddistinguere l'intervento delle prefetture. Noi, come accennava prima Sua Eccellenza la dottoressa Pirvera abbiamo individuato una sorta di prassi virtuosa che ha consentito un coordinamento, diciamo pure pressoché in tempo reale tra l'autorità giudiziaria e la prefettura. Una prassi virtuosa che poi, devo dire, noto con piacere è stata in qualche modo codificata per alcuni aspetti proprio nel decreto del 2 ottobre del 2023 del Ministero dell'Interno. Quali sono gli elementi e i vantaggi che sono emersi da questa prassi operativa che abbiamo svolto? Innanzitutto quello di garantire un costante scambio informativo tra la Direzione Investigativa Antimafia e la prefettura scambio informativo che si è realizzato più delle volte anche mediante la possibilità di far partecipare alle riunioni del GIA e quindi del gruppo operativo installato presso la prefettura del magistrato di riferimento della Direzione Distrittuale Antimafia che conducesse le indagini su quel determinato territorio ed è questa la prassi che abbiamo seguito proprio per quel che riguarda l'intervenuto scioglimento per le infiltrazioni mafiosi del comune di Bavafranca a cui faceva cenno in precedenza Sua Eccellenza. L'altro aspetto, direi forse ancora più importante, è stato quello di consentire, ovviamente ad indagini concluse, che alle riunioni e alle attività di accesso svolte dal personale del gruppo Interforze partecipassero anche unità di Polizia Giudiziaria che avevano svolto le attività di indagine su delega dell'autorità giudiziaria. Si è voluto così fare in modo che anche quel know-how, quella conoscenza dei fatti che fosse propria della Polizia Giudiziaria potesse transitare nell'ambito della procedura di tipo amministrativa. Questo metodo ha comportato innanzitutto la necessità della individuazione di alcuni reati spia che possono essere considerati come estremamente significativi della possibilità di infiltrazioni mafiose nelle imprese e anche negli enti pubblici. In questo caso si trattava di un comune di medie dimensioni degli enti pubblici che gestiscono determinati settori di appalto. Quali sono questi reati spia? Nel caso di specie, ad esempio, si è contestato un reato di corruzione aggravato, essenzialmente l'articolo 416 bis numero 1 del codice penale, dal metodo mafioso. E badate, la peculiarità di questo aspetto è stato che l'infiltrazione mafiosa, nel caso di specie, non ha riguardato tanto e soltanto la compagine politica, ma ha riguardato la struttura amministrativa dell'ente. Cioè, parliamo di un comune dove, diciamo, l'ex segretario comunale in pensione è stato vittima di un agguato con modalità mafiose, parliamo di un comune dove è emesso che c'era la struttura amministrativa, il cuore della struttura amministrativa dell'ente comunale, che era di fatto pesantemente condizionato dall'organizzazione mafiosa. E questo non ci deve stupire laddove si consideri che per i componenti di un'organizzazione mafiosa è in larga parte più affidabile avere un loro referente diretto nell'ambito della componente amministrativa tendenzialmente stabile di un comune, che non nell'ambito della componente politica. Nel nostro caso, per non farci mancare nulla, c'è stato sia l'uno che l'altro, perché altro reato spia che è emerso era un'ipotesi di delitto di guerra all'articolo 416 terra, quindi scambio elettorale politico mafioso, contestato poi al sindaco del comune in questione. Quindi questi due reati spia, che si sono poi trasfusi ovviamente nella adozione di provvedimenti cautelari, hanno consentito, diciamo, di mettere a disposizione della Prefettura un patrimonio conoscitivo notevole e che è stato sicuramente utile, come poi è stato richiamato anche nel decreto ministeriale di scioglimento dell'ente pubblico, per arrivare non soltanto ad uno scioglimento, ma per arrivare ad un provvedimento di naturale che poi resistesse anche nei successivi gradi di giudizio amministrativo. Perché, badate bene, uno dei problemi che abbiamo molto spesso constatato è che alcuni provvedimenti, alcune misure interdittive emesse dalle Prefetture poi venissero, diciamo, cassate in sede di giudizio amministrativo proprio perché una parte di elementi di conoscenza fondamentali per poter sfragare e corroborare la misura interdittiva che erano patrimonio di conoscenza dell'autorità giudiziaria, non erano stati tempestivamente veicolati nell'ambito della procedura amministrativa stessa. Quindi l'esigenza di coordinamento è, a mio avviso, fondamentale in questo ambito. Ed anche quel richiamo che è stato fatto al rilascio delle certificazioni antimafia, che non deve essere soltanto un adempimento in qualche modo statico o formale, ma invece un adempimento che richiede un'attività istruttoria diciamo ben più complessa, è estremamente utile ed è estremamente significativo. Basti pensare che in un settore che è quello relativo, diciamo, all'erogazione dei contributi comunitari di sostegno all'agricoltura, di sostegno all'allevamento, è emerso che è bastato semplicemente svolgere delle certificazioni antimafia, certamente antimafia, in maniera penetrante per poter di fatto evitare che milioni di euro, perché parliamo milioni di euro, venissero in qualche modo lucrati da imprese controllate o infiltrate dalla criminalità organizzata di tipo mafioso. Quindi è necessario che il controllo si ponga in una prospettiva non soltanto diciamo statica, ma anche in una prospettiva dinamica. Abbiamo poi individuato come prassi operativa in questo caso, quello di andare a fotografare una serie di settori che sono quelli caratterizzati da una più ampia vulnerabilità rispetto alle infiltrazioni mafiose. Nell'ambito degli appalti pubblici vi sono dei settori che notoriamente sono caratterizzati da una maggiore permeabilità. Uno di questi è il settore degli appalti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dove ci si trova molto spesso in presenza di ditte che sono pesantemente infiltrate dalla criminalità mafiosa e che, come diceva esattamente prima il signor prefetto, sono ditte che molto spesso ricevono una interdittiva antimafia dalla prefettura di Salerno, ma poi partecipano ad una gara d'appalto a Caltanissetta e questi dati non sempre sono dati diciamo prontamente disponibili in sede di istruttoria e di rilascio quindi della certificazione antimafia da parte dell'ente nel cui ambito territoriale si va a svolgere quella determinata gara d'appalto. Quindi un primo problema è sicuramente questo. Un secondo problema è che questo settore viene pesantemente condizionato anche diciamo mediante il ricorso alle procedure d'urgenza. Procedure d'urgenza che d'urgenza non sono perché praticamente viene in qualche modo precostituita una situazione di urgenza, non viene bandita una regolare gara d'appalto per cui il sindaco ricorre diciamo a dei provvedimenti tamponi, le ordinanze sindacali, i contingibili ed urgenti con cui abbiamo assistito per anni, in qualche caso anche per decenni alla attribuzione di appalti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al di fuori di qualsiasi procedura operativa, al di fuori di qualsiasi trasparenza a ditte locali o comunque a ditte controllate dalla locale consorteria mafiosa. Quindi l'infiltrazione non è soltanto nel momento della realizzazione dell'appalto attraverso il canonico meccanismo che ben conosciamo dei subappalti ma è anche molto spesso a monte, cioè si precostituisce una situazione tale che consente alla parte politica di andare ad utilizzare il sistema strumentalmente dell'ordinanza contingibile ed urgente per andare ad assegnare determinati compiti ad imprese che si sottraggono ad ogni tipo di controllo. Altro meccanismo diciamo è che abbiamo riscontrato nella procedura operativa di cui si faceva cenno in precedenza è quello dell'affidamento diretto sotto soglia mediante il frazionamento dell'appalto. quindi abbiamo assistito ad appalti che venivano frazionati ad hoc divisi in più lotti proprio per evitare che si superasse la soglia che richiedeva l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica. E infine devo dire nel caso che ci ha interessato c'era anche diciamo una certa inerzia proprio per queste imprese da parte dell'amministrazione comunale nel richiedere alle imprese di produrre la certificazione antimafia. Mi rendo conto che questo è un caso limite che è dovuto al fatto che ci siamo trovati ad operare in una realtà caratterizzata da una profonda infiltrazione mafiosa e da un substrato diciamo di presenza mafiosa che fortunatamente non è comune ad altre parti del territorio nazionale. Però va anche detto che con la sempre maggiore delocalizzazione delle organizzazioni mafiose il problema a mio avviso è un problema che può porsi anche in ambiti che invece si potevano ritenere forse fino a qualche decennio fa immuni da questa problematica e da queste tematiche. Passo brevissimamente per non togliere spazio agli altri relatori ed anzi colgo l'occasione per salutare il collega Luca Tescaroli che non ho salutato prima ma col quale condividiamo un percorso di attività investigative in coordinamento. Dicevo non voglio togliere tempo a nessuno e quindi passo ad esaminare veramente molto brevemente gli aspetti di novità del decreto ministeriale del ministero dell'interno dell'ottobre del 2003 che mi sembrano più interessanti. Il decreto pone secondo me come linea direttiva quello e quindi diciamo in qualche modo istituzionalizza quella che è la necessità di un coordinamento interno ed esterno. Coordinamento interno nel senso che responsabilizza molto i componenti diciamo del gruppo GIA a interfacciarsi con tutti i limiti ovviamente legati al segreto investigativo con le amministrazioni di appartenenza per e quindi con le autorità di politica giudiziaria di appartenenza per acquisire ed arricchire il compendio informativo che è necessario per l'adozione dei provvedimenti e quindi questo vi è sicuramente un profilo di coordinamento interno che tende ad arrivare diciamo verso un'attività che potremmo anche definire anche se il termine magari potrà far sorcere il naso a qualcuno di polizia di prevenzione. L'altro aspetto è invece il coordinamento esterno con l'autorità giudiziaria ed in particolare con le DDA territorialmente competente. Questo aspetto è finalmente direi istituzionalizzato nell'ambito del decreto che prevede praticamente se non vado errato all'articolo 5 che parla per l'appunto della comunicazione dei flussi informativi prevede ed istituzionalizza la partecipazione del procuratore distrettuale o del suo delegato alle riunioni coordinate dalla prefettura del gruppo interforze del gruppo GIA. Quindi una collaborazione sicuramente rafforzata che viene poi esplicitata direi in maniera estremamente specifica dal successivo articolo 6 che fa un'elettazione diciamo abbastanza specifica di provvedimenti che le prefetture possono richiedere e che l'autorità giudiziaria è tenuta a fornire sempre diciamo valore per scontato nel rispetto del segreto investigativo per consentire un'adeguata istruttoria delle procedure amministrative. Ad esempio ed è quello che poi è successo molto banalmente nel caso che ci occupa. Ad esempio provvedimenti cautelari sia provvedimenti emessi dal GIP ma anche provvedimenti eventualmente confermativi del Tribunale dell'esame ed addirittura della Cassazione che si pronuncia in sede cautelare rispetto ad un determinato grave o gravissimo quadro indiziario. a maggior ragione se ci si arriva ma con i tempi della giustizia questo non sempre è possibile sentenze di condanna anche di primo grado ma soprattutto e qui mi ricollego all'incipit degli interventi che mi hanno preceduto provvedimenti e decreti di applicazione di misure di prevenzione antimafia personali o patrimoniali perché devo dire che probabilmente anzi senza probabilmente certamente lo strumento della misura di eh prevenzione eh antimafia che consente di fatto una anticipazione se così possiamo dire della soglia di intervento con un coefficiente probatorio di gran lunga inferiore rispetto a quello che è richiesto per arrivare non dico una sentenza di condanna ma anche semplicemente ad un provvedimento cautelare anche di natura reale per esempio un sequestro preventivo in corso di indagio dicevo la misura di prevenzione patrimoniale consente di fare emergere tutta e di valorizzare tutta una serie di elementi che possono essere di grandissima importanza e di grandissimo interesse delle prefetture nello svolgimento dei compiti a loro demandati. La misura di prevenzione diciamo patrimoniale consente di recuperare una grandissima mole di informazioni che molto spesso sono insufficienti per istruire un procedimento di natura penale che invece sono di grandissima importanza per le finalità che qui ci interessa. L'altro aspetto che è stato sicuramente evidenziato è come poter eventualmente favorire la circolarità delle notizie. Noi nell'ambito diciamo delle direzioni distrettuali antimafia abbiamo una banca dati nazionale che è gestita dalla procura nazionale antimafia ed antiterrorismo che è la banca dati Siddasidna. La banca dati Siddasidna è veramente una fonte diciamo inesauribile di notizie, di informazioni che hanno peraltro un ambito ed una rilevanza nazionale. Potrebbe essere una modalità diciamo utile quella da parte delle prefetture di chiedere anche all'autorità giudiziaria nell'ambito di queste attività di coordinamento la possibilità di attingere a notizie ovviamente ostensibili quindi relative a procedimenti definiti che possono essere contenuti nell'ambito della banca dati nazionale Siddasidna che è uno strumento che va ulteriormente implementato ma che allo Stato consente comunque di avere una conoscenza direi quasi enciclopedica rispetto a molte vicende soprattutto una conoscenza che si basa sull'intero territorio nazionale quindi una conoscenza diciamo non soltanto locale e non soltanto limitata. In sintesi e concludo il mio intervento ritengo che lo strumento apprestato dal decreto ministeriale dell'ottobre del 2023 è sicuramente uno strumento utile come tutti gli strumenti richiederà poi da parte di tutti quindi da parte delle autorità prefettizie e da parte della magistratura un po' di buona volontà per renderlo efficace ed effettivo perché bisogna ripeto nel rispetto dei singoli ambiti e nel rispetto per quanto ci riguarda dal segreto investigativo comprendere che diciamo le attività svolte dalla prefettura in questo settore non devono essere vissute e faccia autocritica qui da noi magistrati come una fastidiosa appendice burocratica rispetto alle attività che normalmente approfondiamo ma invece hanno una loro centralità ed una loro notevole importanza. Ringrazio tutti per avermi ascoltato e spero di non avermi annoiato troppo. Grazie. Ringraziamo il dottor Pacifico per questa bella articolata e diffusa trattazione dalla quale è emerso che oltre a non solo la distinzione tra law in action e law in the book ma anche è un problema che attiene alla trasparenza e sentiamo adesso il procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Firenze, il dottor Luca Testaroli se si inserisce in questo filone espositivo. Grazie. Innanzitutto saluto i presenti e ringrazio per l'invito che vi è stato rivolto, ci troviamo in una sede prestigiosa che dà ancora maggiore lustro e significato al tema così importante che oggi ci troviamo ad affrontare. Devo ringraziare fra tutti il prefetto, Sua Eccellenza, che ho incontrato qualche settimana fa con la quale abbiamo iniziato a ragionare sulle tematiche che sono state imposte all'attenzione dal decreto che lo stesso prefetto, Matilde Perera, ha esposto e richiamato in modo efficace. Io cercherò di dare alcuni elementi che vogliono essere per un verso la traduzione di un'esperienza vissuta in questo settore del contrasto alla criminalità organizzata in punti di osservazione molto diversi gli uni dagli altri. Vorrei cercare di dare alcune indicazioni che mettono a confronto in realtà tra loro profondamente diverse. Ho ascoltato il collega Pacifico, a quale sono legato da una comune esperienza professionale anche in questi anni, che ha raccontato la sua esperienza di sera. Un'esperienza che ho vissuto nella prima fase della mia attività professionale e che mi ha consentito di venire a contatto con una realtà molto peculiare dove l'infiltrazione mafiosa era particolarmente intensa. Ci sono delle indicazioni che mi sembrano molto efficaci per delineare quello che era il meccanismo, che ancora sotto certi aspetti è il meccanismo dell'infiltrazione in settori ad alta densità mafiosa come quello nisseno e palermitano. È il racconto di un collaboratore di giustizia oggi deceduto che ha iniziato a dare il suo apporto con l'autorità inquirente che è Angelo Sino, il quale vivendo ai margini della criminalità mafiosa, soprattutto quella di San Giuseppe Iato, ha spiegato quello che era il meccanismo di gestione degli appalti da parte dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra. Ha descritto il cosiddetto meccanismo del tavolino, una metodica di gestione degli appalti pubblici e trilaterali che vedeva il condizionamento dell'assegnazione dei lavori sotto molteplici forme da parte di Cosa Nostra, la suddivisione dei proventi delle attività rivenienti da versamenti di tangente da parte di imprenditori condizionati e la ripartizione di questi proventi tra il potere esercitato dalle cosche locali e i referenti politici con i quali necessariamente si doveva interferire. prima dell'inizio della sua collaborazione del 1997 ricordo un caso trattato che mi sembra classicamente la rappresentazione di quella che era una realtà che dimostrava l'esistenza di questo connubio così stretto. Il riferimento è alla gestione di un appalto relativo alla costruzione di un istituto tecnico per geometri in Caltanissetta e un appalto relativo alla costruzione di un palazzetto dello sport che in realtà che ancora esiste in quel territorio nisseno, se mal non ricordo. E sostanzialmente si trattava di assegnare i lavori relativi a questa, alla costruzione del primo edificio, cioè un edificio destinato a raccogliere il supporto necessario per aprire una scuola. E ciò che è avvenuto c'è stato raccontato dal, è uno dei primi collaboratori di giustizia che hanno iniziato a intraprendere un rapporto collaborativo con l'autorità giudiziaria. Si tratta delle indicazioni che provengono da Leonardo Messina, indicazioni che furono alla base della prima operazione di spessore dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amedio. Il nome di Costui è Leonardo Messina, che era un soggetto che rivestiva il ruolo di Capodecina nella famiglia di San Cataldo. E Costui iniziò proprio il suo rapporto di collaborazione consegnando due certificati antimafia. Due certificati antimafia che erano stati sottratti da delle buste di imprese che avevano partecipato all'assegnazione della gara per questo istituto tecnico commerciale. E spiegò come avevano addomesticato questa gara. E ci spiegò che egli stesso si recò dall'allora assessore per i lavori pubblici della provincia regionale, perché questa è la denominazione del prefetto e il collega Pacifico, ben lo sanno, di Caltanissetta. Possiamo anche fare il nome perché vi è una sentenza passata in giudicato. Si rivolse a questo assessore Gianfranco Occhipinti, che poi divenne nominato parlamentare e ottenne proprio dallo stesso le buste presentate da una impresa, l'impresa Stancanelli, che si era rifiutata di aderire alle sollecitazioni che avevano posto in essere i mafiosi per condizionare la gara. Si fece consegnare le buste, si recò in una mansarda di fronte al Palazzo di Giustizia e con un temperino aprì la busta, estrasse i certificati antimafia e richiuse con la ceralac le buste che restituì all'assessore. fu da parte degli imprenditori che si aggiudicarono la gara ai fratelli Anzalone consegnata una tangente di 200 milioni di lire che venne consegnata ai mafiosi a Messina nel quale provvide a distribuire questa tangente dando una parte all'assessore, una parte destinata alla famiglia di San Catalto. Una delle altre imprese che non si erano prestate a seguire le direttive era l'impresa di Ranieri, il quale venne poi assassinato a Palermo. E questo credo che sia il meccanismo che descrive qual era l'intimo connubio nella gestione degli appalti pubblici. E un altro imprenditore che iniziò a collaborare con la giustizia, Cosentino, una collaborazione in vero parziale ed imitata da alcune gare, si determinò ad ammettere il versamento di alcune tangenti per ottenere l'aggiudicazione degli appalti. e ricordo che alla presenza del suo difensore gli disse, ma lei ha cominciato a fornire questo apporto, continui, prosegua. C'era un'indagine molto ampia di radiografia della gestione degli appalti in diverse parti del Nisseno e mi stupì che sebbene gli risultasse coinvolto in altri appalti non fornisse indicazioni dello stesso tipo. e quindi lo invitai a proseguire in questo rapporto, ma ha lo stesso tacco e parlò il suo difensore, il quale in maniera molto candida mi disse, qui tutti, ma proprio tutti, gli appalti sono condizionati. Se il mio cliente pare, se il mio cliente continuerà a parlare, verrà ucciso. Due, un dato sintomatico di quella che è una realtà di profondo condizionamento, che è una realtà di condizionamento diversa rispetto a quella che si vivono in realtà come quella romana oppure come quello che si può vivere qui in Toscana, perché la Toscana non è la Sicilia, non è la Calabria, non è la Puglia, non è la Campania. Però vi è tuttavia una presenza stabile, una presenza stabile e organizzata di strutture criminali, o meglio di esponenti di strutture criminali mafiose, che sono operative sin dagli anni Ottanta e dagli anni Novanta, che hanno avuto manifestazioni corrente. Basti pensare alla strage di Natale del 23 dicembre del 1984, quando esplose un ordigno sul treno una grande galleria dell'Appennino in località del San Benedetto Val di Sambro, o alla strage di nove anni dopo, del 1993, la strage di via di Gerd Goffi. è una manifestazione che è stata preceduta da attività di investimento che sono state effettuate prima della strage di Natale del 23 dicembre del 1984 da Pippo Calò, il quale investì in una zona del nostro distretto, in Toscana, in località Baco di Monte San Savino, in provincia di Arezzo. E Calò, una delle figure più note della criminalità mafiosa e di Cosa Nostra in particolare, il cosiddetto cassiere della mafia, anzi forse il cassiere proprio, e che riveste il ruolo di capomandamento di Porta Nuova, ma nello stesso, assieme a Lorenzo Di Gesù, un altro mafioso, un uomo d'onore del mandamento di Caccamo, si recò proprio in quella località e con delle società messe a disposizione da Ernesto Di Otallevi, soggetto vicino alla banda della Magliana e legato da rapporti economici con Pippo Calò, l'11 febbraio del 1982 ha acquistato da William Weaver per un appezzamento di terreno con una costruzione per 165 milioni di vigliere. Un bene che è stato intestato a Carolina Lucarini, moglie di Di Otallevi, gestrice, amministratrice della società immobiliare Rossi. Ancora Calò ha effettuato un altro acquisto, sempre con lo stesso supporto di Lorenzo Di Gesù e ha acquistato da Florian Vecchi il primo marzo del 1982, quindi a distanza di poco tempo, un altro immobile per la somma di 160 milioni di lire e questo immobile venne intestato alla nipote di Lorenzo Di Gesù, Maria Edena Pazzeca. E Lorenzo Di Gesù era stato al soggiorno obbligato proprio in quel centro negli anni 70. E questo per dire che l'infiltrazione economica è stata il preludio di attività a base violenta che hanno turbato fortemente la vita di questa regione. Oggi solo sporadicamente e in modo selettivo si assiste al ricorso della violenza in forme contenute e rispetto al passato possiamo citare a riguardo un esempio significativo di quello che è accaduto a Firenze. A Firenze nella notte del 23 febbraio del 2021 è stato sistemato un ordigno, una bomba rudimentale che ha danneggiato l'ingresso di un locale al nome di questo locale Pizza, Cozze e Babà riconducibile a Luigi Cuomo un esponente di gruppi camorrestici salerditani il quale si è trasferito e radicato nel territorio fiorentino ha dato vita ad un'autonoma associazione per delinquere e in questo territorio si è trascinato uno scontro che era in essere in provincia di Salerno nella zona di Nocera e che ha avuto come manifestazione questa azione di cui vi dicevo. Viene invece ora sulla base degli esiti investigativi di cui si dispone è privilegiata la cura di attività economiche e lo svolgimento di affari in modo silenzioso in modo da non destare allarmi. Gli affari sono molto variegati in cui gli interessi mafiosi si radicano nel nostro territorio. I settori più ambiti sono il traffico di rifiuti i contratti pubblici il commercio e i servizi il manifatturiero del tesside e la lavorazione delle droghe. Sono presenti in realtà delle compagini criminali straniere molto agguerrite quella cinese e quella albanese che sono inserite in un network criminale che coinvolge strutture mafiose anche tradizionali radicati nel nostro territorio e sono emersi non solo plurimi contatti tra imprenditori e professionisti insediati nel territorio ed esponenti dell'Andrangheda della Camorra e di Cosa Nostra plurimi contatti che si sono tradotti in condotte delittuose di tipo corruttivo che hanno coinvolto esponenti della pubblica amministrazione in rati tributari anche con finalità di agevolazione di consorsi mafiosi e sono stati anche individuati soggetti inseriti in associazioni di tipo mafioso e condannati per aver fatto parte di associazioni di tipo mafioso che hanno dato vita a sodalizi criminosi collegati con le case madri operativi nella regione che sono anche risultati destinatari di misure di prevenzione un settore sul quale il nostro ufficio la procura distruttuale di Firenze in particolare ha investito molte energie e molte risorse perché è uno strumento fondamentale uno strumento fondamentale sia per neutralizzare le infiltrazioni mafiose con standard probatori differenziati rispetto al procedimento penale ma comunque nel quadro di un procedimento a base giurisdizionale sia per ostacolare l'attività di riciclaggio che è molto spesso risultata collegata all'attività di infiltrazione vi consegno un dato che ovviamente in senso assoluto a livello nazionale ha poco rilievo se paragonato a quello della realtà ad esempio campana o calabrese o siciliana ma che per una realtà come la nostra se era affrontato rispetto a quello che è accaduto nel passato assume un significato sono stati infatti confiscati in larga parte attraverso una confisca divenuta definitiva beni per un valore di circa 50 milioni di euro nel periodo che va dal giugno del 2019 al 2022 vari sono stati i casi di misure di prevenzione che sono stati indirizzati nei confronti di imprenditori di imprenditori impegnati nel traffico relativo ai rifiuti e che si occupavano di appalti di rilievo e le misure di prevenzione io credo siano una chiave di volta anche perché accanto alle misure draconiane quella del sequestro e della confisca sono state introdotte delle misure di prevenzione cosiddette miti che sono come noto l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 e il controllo giudiziario previsto dall'articolo 34 bis e che sono misure che lambiscono pur con dei tratti differenziali proprio le interdittive antimafia così come strutturate e affinate negli ultimi tempi che hanno visto anche diremo così l'impatto del decreto ministeriale del 2 ottobre del 2023 e abbiamo a disposizione dunque una serie di strumenti sia di carattere giurisdizionale cioè l'amministrazione giudiziaria il controllo giudiziario sia di natura amministrativa le interdittive nelle sue varie forme che impongono che impongono un'attività di coordinamento perché vi vi è un'area di sovrapposizione come una sorta di cerchi concentrici che interagiscono e in redazione ai quadi di fatto già ci eravamo mossi nel nostro territorio per svolgere e intraprendere a livello spontaneo una forma di collaborazione con l'autorità prefettizia e con il gruppo Interforce attraverso anche contatti con alcuni prefetti prefetto di Firenze ad esempio e la partecipazione ad incontri per meglio perfezionare come una sorta di axio finio ragundorum i rapporti tra le varie iniziative che hanno visto anche forme di convergenza che hanno richiesto diremmo così questa tipologia di intervento già la struttura del gruppo Interforce è in sé una un polmone che alimenta una forma di coordinamento interno è già stato ricordato in considerazione di dei soggetti che ne fanno parte e che offrono attività di supporto e di collaborazione che sono sostanzialmente i principali referenti nelle iniziative proiettate all'adozione delle molteplici forme di misure di prevenzione però nonostante questo si è avvertita questa esigenza anche perché si sono verificati i casi nei quali il pubblico ministero il procuratore distrettuale ha adottato iniziative volte a chiedere l'applicazione di misure di prevenzione e in attesa della decisione da parte del tribunale della prevenzione è intervenuta l'applicazione di un'interdittiva antimafia che sono situazioni che si reggono si legano male che non possono convivere e il diciamo questo decreto io lo saluto con in termini estremamente positivi perché ha per così dire i suoi elementi di novità tradotto in termini regolamentati quello che era la necessaria e imprescindibile forma di interlocuzione tra il procuratore distrettuale e il prefetto e i prefetti del nostro distretto in particolare e lo ha detto bene anche il collega Pacifico c'è la necessità di rendere attuale ed effettivo questo coordinamento il che porterà ad adottare iniziative da parte della procura distrettuale nei confronti dei signori prefetti per creare le condizioni per concretamente rendere possibile questa forma di coordinamento dove devono bilanciarsi interessi parimenti importanti ma di diversa natura perché vi è per un verso l'esigenza di tutelare la riservatezza delle investigazioni per l'altro verso di assicurare l'operatività di questi molteplici strumenti terapeutici di intervento nei confronti dell'impresa che possono essere diremmo così proiettate al recupero dell'impresa sane come le misure di prevenzione limiti e le interdittive che vanno gestite con molta oculatezza perché possono anche tradursi in uno strumento di distruzione dell'impresa per le conseguenze che ne derivano e che viaggiano parallelamente a quelle che sono le misure di prevenzione tradizionali quelle draconiane che vengono applicate quando l'impresa è irrecuperabile quando il tasso di contaminazione è così intenso per cui non si intravede la possibilità di un recupero e vi è una spiccata pericolosità sociale da parte del tessuto imprenditoriale sotteso all'impresa è chiaro che si deve necessariamente ricorrere a quelle misure ma noi dovremmo diremmo così puntare molto sull'adozione di queste forme di trattamento terapeutico ecco delle imprese e vorrei anche nell'avviarmi la conclusione perché non voglio occupare troppo spazio vorrei sottolineare un dato che dimostra quello che è l'ambito operativo di questi strumenti di cui stiamo parlando cioè il destinatario dell'informativa dell'informazione interdittiva può essere l'impresa del mafioso o quella del terzo agevolatore dell'impresa mafiosa che commette uno dei reati di cui l'articolo 51 com 3 bis i reati per così dire a vocazione agevolativa del tessuto mafioso e tipicamente mafioso e tipicamente mafiosi e mentre il destinatario della misura di prevenzione mite quindi l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario è un'impresa terza cioè un'impresa che deve avere come presupposto negativo il fatto che non risulti la pericolosità dell'imprenditore ed è una misura che sulla base dell'esperienza che ho vissuto si può applicare alle imprese medio-grandi dove vi è una sorta di separazione tra quella che è la titolarità dell'impresa e la compagine sociale è difficile da adottare e da applicare e da applicare nei casi di piccole di piccole imprese abbiamo diremmo così una diversità di presidio indiziario per l'interdittiva antimafia che è uno strumento preventivo che necessita di una gravità probatoria meno intensa rispetto agli strumenti di cui dicevo del giurio di prevenzione MITI e vorrei sottolineare che però in realtà non è sempre così facile distinguere quando l'impresa è terza da quando invece non lo è perché la metodologia tipica dell'agire dell'imprenditore mafioso presenta circostanze gradate di coinvolgimento ad esempio il concorso nel reato il favoreggiamento dell'imprenditore che in molti casi inizia come una vittima e poi da vittima evolve da propria condotta in una sorta di consapevole agevolazione quindi in questo passaggio dinamico che si è riscontrato nella prassi non sempre è facile individuare la sussistenza dei presupposti per la terza età queste sono misure sono misure che attengono all'impresa stessa non non all'imprenditore vi è in realtà anche un'ulteriore misura che in questi in questo ambito impatta che è una misura che vede sempre l'intervento del prefetto ed è una misura che è introdotta dall'articolo 32 del decreto legislativo del 24 giugno 2014 un decreto legge del 24 giugno 2014 convertito nella legge dell'11 agosto 2014 e attiene ai reati di corruzione e sempre più vengono attratti dall'agire delle consopterie mafiose e il prefetto su proposta del presidente dell'ANAC può procedere di autorità rinnovando gli organi sociali ovvero provvedendo a nominare uno o più amministratori quindi la polidecità degli strumenti impone e vi è più una forma marcata di coordinamento il coordinamento è un vettore che sempre più deve permeare l'operare dell'autorità amministrative e dell'attività giudiziaria e giurisdizionale e ciò al fine di rendere più qualificato l'intervento più appropriato per cercare di contrastare e neutralizzare un fenomeno insidioso e pericoloso come quello della infiltrazione e degli appalti nel settore dell'economia grazie ringrazio ringraziamo anche il procuratore aggiunto Luca Tescaroli per questa esposizione che ha rinnovato la complessità della tematica e i correttivi necessari per rendere la legalità un valore praticato nella sostanza do adesso la parola al generale De Carbinieri Antonino Buda in servizio presso la DIA pronto? mi sentite? innanzitutto buongiorno a tutti come diceva mi presento sono il generale Antonino Buda da ottobre capo del secondo reparto investigazione giudiziaria della DIA di Roma direzione investigativa antimafia fino a quella data sono in DIA da 15 mesi sono stato il capo del primo reparto indagini preventive dopo la presentazione volevo ringraziare ovviamente Sua Eccellenza il prefetto Perreira che ho avuto il piacere di conoscere l'anno scorso qualche mese dopo il mio insediamento ringraziare il padrone di casa il rettore magnifico rettore e gli organizzatori per questo onore che mi avete dato peraltro ho avuto anche l'occasione di incontrare il dottor Tescaroli e il dottor Pacifico che da diciamo col mio nuovo incarico dovrò incontrare per motivi legati ad altri contesti e quindi è un'anticipazione cosa dire come tutti gli intervenuti diciamo successivi gran parte degli argomenti mi sono stati bruciati quindi cercherò adesso di incentrare quello che mi ha chiesto il prefetto Pirrera in particolare su questo ultimo decreto ministeriale del 2 ottobre che mi ha visto lavorare dall'anno scorso sulla scorta delle esperienze personali degli incontri che ho avuto tra i primi anzi col prefetto Pirrera e soprattutto derivanti dalla mia esperienza di ufficiale dell'arma dei carabinieri ringrazio in particolare dottor Tescaroli e dottor Pacifico per avermi riportato indietro con la memoria citando alcuni soggetti come Angelo Sino il Pippo Calò di Gesù in particolare e i Panseca attesimi ai trascorsi di ultradecennale nel territorio dall'entroterra palermitano soprattutto nella parte del Morralese ho sentito citare San Giuseppe Iato che mi ricordano i periodi da giovane capitano e tra rops spunto anche da questa mia esperienza per illustrarvi anche un'evoluzione e la consapevolezza che ho raggiunto a questa venerandetà nel proporre come ha anticipato il prefetto Pirrera nei lavori preparatori di questo decreto il che in qualità di capo del primo reparto della DIA mi vedeva interlocutore in gabinetto del ministro per proporre degli spunti nella cornice più generale della velocizzazione delle procedure preventive della documentazione antimafia in vista del PNR ma non solo perché vi spiegherò che in prospettiva anche la DIA si sta attrezzando per accelerare queste procedure antimafia che spesso come diceva il prefetto e i procuratori sono particolarmente complesse sia in termini perché è molto spesso un appalto il prefetto Pirrera parlava dell'appalto per esempio riguarda l'ANAS sono appalti enormi che interessano anche settori e territori molto ampi come quelli ferroviari dove già l'esperienza attuale ci l'esperienza più che altro investigativa ma anche informativa ci fa rilevare e ci sottolinea l'appetito delle mafie di vario tipo verso queste afflusso di denaro qualsiasi opera sia perché di fatto le organizzazioni mafiose che è ciò di cui si occupa la DIA in particolare sono assetate di denaro da qualsiasi parte provenga sia parte politica o ente approvvigionatore ente erogatore sono ovviamente assetate della ricchezza che poi da reinvestire in varie modalità quindi in particolare cosa vi prospetterò vi prospetterò l'origine di questo decreto cornice ovviamente di accelerazione delle procedure legate al PNRR che come sapete è già stato detto sono legate da tempistiche molto strette non solo nell'evasione della documentazione ma anche nell'erogazione e nella concessione dei finanziamenti e siamo partiti da questa esperienza il prefetto l'aveva già anticipato e soprattutto perché nell'ambito dei GIA dove la DIA ha un ruolo preeminente anche nelle informazioni preliminari molto spesso per gli importi che per i contratti anche sopra soglia noi teniamo molto siamo presenti per esempio parlo della Toscana il centro operativo di Firenze ha le dipendenze dieci prefetture quindi riserviamo particolare attenzione a questo aspetto alla nostra partecipazione nella coordinamento assieme alle altre forze di polizia carabinieri polizia guardia di finanza nel fornire un contributo che possa mettere in condizione il prefetto di poter adottare un provvedimento che come diceva il dottor Tescaroli molto spesso potrebbe essere anche un qualora rigettato si rischia di dare patenti di legalità a aziende più o meno collegate o direttamente o indirettamente infiltrate da organizzazioni pericolose come dire organizzazioni mafiose tradizionali o nelle regioni di origine ma anche nelle regioni in posizione ho parlato della mia esperienza siciliana e non solo ma la ultima è stata il comando provinciale di Reggio Emilia dove a seguito io sono arrivato immediatamente o contestualmente all'operazione Emilia si è scoperto con molto ritardo dopo oltre 20 anni una infiltrazione in particolare di una famiglia del Catenzarese che aveva permeato se non monopolizzato l'intero settore edile non a caso ancora oggi la prefettura di Reggio Emilia è in grado di esprimere numeri di interdittivi antimafia che molto spesso come si dice fanno saltare il conto nell'ambito nazionale proprio perché negli anni partendo dal soggiorno obbligato di un certo dragone si sono gradualmente inserite dalle famiglie di vario tipo con varie denominazioni monopolizzando in particolare il settore edile ma non solo quindi un po' come diceva il dottor Tescalori in Sicilia ai tempi di Sighino non c'era appalto che sfuggiva alla mafia anche in Emilia Romagna se poco in ritardo si è scoperto che gran parte dei lavori non solo pubblici venivano approvvigionati o quantomeno si accaparrati da questi propaggini di organizzazioni mafiose che mantenevano comunque il loro centro di influenza nella madre patria in provincia di Catanzaro in particolare quindi venendo a noi il prefetto mi ha come dire diciamo in quest'ottica nell'ambito delle riunioni propedeutiche per formulare questo decreto ministeriale mi sono sentito in particolare di trasfondere in un atto che mi pare apprezzato un po' da tutti di una prassi che è ripetuta che anch'io all'epoca adottai da ultimo a Reggio Emilia ma non solo in una interlocuzione informale con i vari procuratori di riferimento siano procuratori ordinari che presso la DDA dell'epoca per interfacciarci nello scambio informativo come sempre nel limite dell'ostensibilità e nel rispetto del segreto investigativo perché mettessimo in condizione un'autorità locale a cui è stata demandata tutta l'attività preventiva nelle migliori condizioni per poter emettere un provvedimento interdittiva o comunque un provvedimento di competenza alla luce di documenti oggettivi di argomentazione di situazioni oggettive che fossero che tenessero anche eventualmente nel grado di impugnazione di questi provvedimenti perché l'accoglimento poteva riverberare anche sul territorio come dicevo con patenti di legalità controproducenti per lo sviluppo cosa sta facendo la dia oltre a questo nell'ambito dei lavori preparatori abbiamo proposto come vedete un po' tutto quello che poi tranne la tempistica che poi è stata determinata credo dal ministro sul resto credo che siano stati accolti tutti i nostri suggerimenti dalla priorità che deve essere assegnata ai componenti del GIA che riguarda tutti i componenti del GIA ai vari esponenti delle forze di polizia anche e soprattutto traendo spunto dalle riunioni tecniche di coordinamento quello che succede è la differenza tra il comitato e la riunione tecnica di coordinamento prevedendo anche la limitazione del dei GIA alle sole forze di polizia questo noi lo abbiamo suggerito perché molto spesso come talvolta avviene in comitato il comitato è un po' allargato anche a personalità che spesso diciamo civili tra virgolette ma può capitare in comitato di trattare argomenti di natura altamente riservata che sarebbe il caso per opportunità o per convenienza o per la riservatezza degli argomenti trattati trattare diciamo in una forma in una composizione più ristretta questo è quello che viene per esempio tra il comitato e l'RTC presso le prefetture e una stessa cosa abbiamo previsto di suggerire in questo caso quindi anche qui si potrebbero prevedere delle riunioni un po' più strette come dire a composizione ristretta per preservare o trattare liberamente di argomenti magari più delicati il resto è stato perché vi dicevo in previsione perché la nostra prospettiva noi come DIA siamo interessati anche alla come dire contribuzione dell'apporto informativo per la struttura di missione retta oggi dal prefetto Caneparo struttura per la prevenzione antimafia si chiama già struttura di missione che si occupa delle documentazioni antimafia e gli approfondimenti informativi per quanto riguarda inizialmente il cratere sismico e di recente con un provvedimento normativo è stata estesa adesso la competenza per esempio per i giochi olimpici invernali Milano-Cortina dove dai nostri accertamenti informativi anche lì sebbene ci troviamo diciamo dalla parte opposta rispetto alle zone di origine mafiosa abbiamo registrato forti appetiti delle organizzazioni mafiose anche nel diciamo al nord Italia all'estremo nord della nostra penisola questo contributo diciamo aggraverà anche diciamo il carico di lavoro che abbiamo già come GIA perché ho citato questo perché per esempio stiamo già orientando come DIA sempre come organizzazione al giubileo ci sono a flusso come dicevo prima lavori che prevederanno il prossimo giubileo dove alcune informazioni ci proteggono alcune formazioni di società recentissime come diceva il prefetto Pirrera anche ricorrendo alle cosiddette teste di legno e prestanove di società che vengono costituite anche al di fuori della sede legale o in al di fuori anche dalla località dove verranno realizzate le opere proprio al fine di rallentare o aggirare addirittura gli accertamenti di approfondimento informativo antimafia abbiamo avuto anche dei casi che hanno portato dei risultati positivi in termini di emissione di intervittime questo parliamo sempre del campo della prevenzione ritornando a quello che ha accendato il dottor Pacifico per esempio agli elementi rinvenibili in SIDA SIDA il premetto che i lavori sono stati questo decreto è stato ovviamente preventivamente concordato anche col procuratore nazionale antimafia che ha espresso il suo parere favorevole anche a questa forma di collaborazione è un importante strumento che noi utilizziamo anche in forma mediata il SIDA SIDA per esempio potrebbe essere all'articolo 6 credo che sia sì a cui vengono demandati alle prefetture eventualmente degli accordi di collaborazione con le direzioni distrettuali antimafia per uno scambio informativo come è stato più volte sottolineato in maniera devo dire giustissima nei limiti dell'ostensibilità delle informazioni e del segreto investigativo potrebbero questo scambio informativo adesso l'abbiamo voluto codificare potrebbe avvenire anche per informazioni che possono essere rinvenibili in quegli atti tenete conto che la mole di informazione l'aveva accennato già l'eccellenza Pirnera è enorme anche noi disponiamo di archivi enormi essensi per esempio del 160 del PUP come dia riceviamo è stato già accennato poco fa dalle cancellerie dal dottor Pacifico riceviamo dalle cancellerie dei tribunali e delle corti d'appello nonché dagli uffici di misure di prevenzione e dell'ufficio del GIP che è previsto che vengano trasmesse ripeto ai sensi del 160 del TUP copia dei properimenti anche in via telematica che vengono emessi per le sentenze irrevocabili di candanda quindi i nostri archivi sono immensi e costituiscono serbatoio e base per alimentare e fornire il parere di competenza ai prefetti delle province interessati per la documentazione antimacica volevo dare anche un elemento di novità perché già l'anno scorso sulla scorta all'esito anche del colloquio fatto all'epoca prefetto di Enna dottoressa Pirrera che trattava come dicevo un apparto dell'ANAS un accenno particolare al controllo ai cantieri se noi ci limitassimo alla documentazione antimafia che rinveniamo nelle varie banche dati alle informazioni antimafia agli accertamenti anche approfondendoli sulle fonti aperte come ha spiegato il prefetto Pirrera molto spesso non rinveniremmo quelle informazioni diciamo preziosissime che abbiamo in occasione del sopluogo nei cantieri ispezione che ai sensi del 93 dell'articolo 93 del codice antimafia competono ai prefetti è che molto spesso se effettuati a sorpresa e non soffiati prima come potrebbe accadere da qualche parte potremmo rinvenire realtà assolutamente diverse rispetto a quelle documentalmente rilevabili è già successo da più parti e proprio in questa direzione ci stiamo muovendo noi abbiamo faccio due numeri assolutamente diciamo indicativi per noi sono ancora pochi nell'anno che appena trascorso abbiamo registrato in tutta la penisola italiana 85 accessi ai cantieri il 47% dei quali concentrati al centro perché perché al centro abbiamo ancora quel cratere stismico che diciamo è appannaggio della struttura di missione quella che poco fa ho citato adesso si chiama struttura di prevenzione antimafia per me sono molto pochi perché con l'avvento del PNRR e con l'avvio dei lavori del PNRR aspicheremmo un'intensificazione di questi controlli a cui far fronte ovviamente richiedono risorse un controllo al cantiere non so se avete esperienza ma vi spiego in sintesi di che si tratta a seguito di un decreto motivato del prefetto si costituisce una liquida per l'accesso al cantiere lo ha citato il prefetto per l'acquisizione di documentazione di interesse o elementi di interesse presso il cantiere o le aziende interessate composto da liquide di personale delle forze dell'ordine eventualmente collaborate da ispettorato del lavoro e quant'altro possa essere ritenuto utile quindi è un impegno gravoso non solo per la pianificazione e l'esecuzione ma anche poi per lo sviluppo degli accertamenti successivi allo scopo di contrarre questa attività già l'anno scorso abbiamo dato mandato in particolare o affidato a una ditta specializzata del settore che è la stessa che si occupa dei nostri Odino Grifo o Mercurio sarebbero i tablet delle forze di polizia che ci consentirebbero in un'occasione di un controllo al cantiere perché ancora si fa a mano oggi si va lì con la penna a trascrivere i verbali e quindi comporta tempo anche sul posto con l'ausilio di un tablet potremmo grazie a dei tag rilevare immediatamente le generalità tutte le informazioni necessarie relative a persone mezzi documentazione e eventualmente anche mezzi di cantiere presenti nell'area il tutto andrebbe informaticamente siamo del 2023 mi sembra auspicabile che ci sia un prodotto del genere travasato immediatamente in un verbale di ispezione al cantiere questo per fare in modo che in una mattinata il tutto ovviamente non solo travasato in un verbale ma soprattutto do previa interrogazione presso le tutte le banche dati disponibili di cui come dia e come forze di polizia disponiamo cioè nel giro di una mattinata al massimo avere un prodotto immediatamente sfornabile perché è strumentale la sua eccellenza Pirrera mi darà conferma perché questo verbale oggi normativamente è previsto che venga depositato entro un mese alla prefettura di competenza che a sua volta dopo averlo vagliato e dopo aver diramato le disposizioni in ordine alle risultanze del verbale dovrebbe poi inserirlo in SIRAC il SIRAC è il sistema informativo di rilevamento accesso ai cantieri che è detenuto dalla DIA questo consentirebbe di avere un ulteriore bancherate con un sistema di accesso ai cantiere che se allargato a forze di polizia altri enti perché ci sono altri attori istituzionali coinvolte nell'attività informativa antimafia potrebbe incrementare quelle informazioni perché una ditta o in subappalto controllata in provincia di Enna potrebbe risultare è già controindicata potrebbe risultare per esempio vi faccio un esempio molto lato ma non è così disparato impegnata nei lavori di manutenzione di una rete ferroviaria in Val d'Aosta quindi la convergenza di questi dati c'è in sintesi e qui mi avvio la chiusura per non rubare molto tempo in sintesi è proprio la convergenza da più parti oggi l'infiltrazione non è più limitata a livello territoriale o a livello contrattuale o un contratto l'infiltrazione piaccia o non piaccia ci sono territori anche un po' più resistenti a metabolizzare questi aspetti o magari fraintendendoli anche in buona fede purtroppo non è più solo limitata la regione di origine delle organizzazioni mafiose ma è estesa come vi dicevo prima anche in altre regioni dove storicamente è difficile immaginare un consenso del genere e soprattutto è come dicevo prima orientata sulla maturazione degli interessi come poter ostacolare queste infiltrazioni prendo una piena consapevolezza una capacità di immediata denuncia e di segnalazione e soprattutto visto il tema di oggi qua nell'argomento in una non gelosa condivisione di informazioni e una massificazione delle informazioni disponibili da rendere ovviamente immediatamente fruibili a chi ha poteri o investigativi o amministrativi per poter osteggiare questa che vi garantisco è stata e continuerà a rimanere una grave minaccia grazie a tutti dell'attenzione ringraziamo noi il generale Buda che appunto ha messo in risalto che ad essere globalizzato non è soltanto il diritto ma è tutta la criminalità che quindi ovviamente come il diritto non ha più uno spazio territoriale ben definito ma ha uno spazio che è diffuso e che non poteva essere diversamente probabilmente non è limitato neanche al territorio nazionale quindi non so se ci sono interventi altrimenti io il luogo del magnifico rettore del direttore generale concluderei ringraziando tutti per questa bella mattina di studio di apprendimento di riflessione importante su tutte le implicazioni che la trasparenza nella politica di una anticorruzione è in grado di dare nell'ottica di una circolarità non solo delle informazioni ma riprendendo quanto diceva il generale Buda di virtuosa collaborazione tra tutte le forze dell'ordine in modo da far sì che appunto la legalità che possa non restare intatta ma perlomeno riuscire a sovranciare fenomeni sempre più delinquenziali sempre più preoccupati grazie a tutti e a tutti grazie grazie Grazie.